Buona Vigilia di Natale a tutti i genitori! Buona Vigilia di Natale a tutti i genitori! Buona Vigilia di Natale! Buona Vigilia di Natale! Buona Vigilia di Natale a tutti i genitori! Buona Vigilia! Buona Vigilia di Natale! Buona Vigilia di Natale! Buona Vigilia di Natale a tutti i genitori! 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 Buona Vigilia di Natale! Buona Vigilia di Natale a tutti i genitori! Buona Vigilia di Natale a tutti i genitori! Buona Vigilia di Natale! Buona Vigilia di Natale a tutti i genitori! Buona Vigilia di Natale! Buona Vigilia di Natale a tutti i genitori! Lu sigili di Natale! Poi abbiamo tempo fino alle Dieci e mezza circa ve lo dico così Quindi non so dirti Ok allora proviamo Una picaran che dicono che è facilissima E divertente speriamo che lo sia Che non sia una trollata E poi vediamo dunque Picaran ok Vediamo siamo due a due Beh ha vinto Come prima cosa c'era Forse è il caso di controllare In che cosa consiste Si può fare no? Posso farlo posso spoilerizzarmi una volta che comincia Comincio La sfida È giocare come Isaac Che comincia con Scatola della mamma Come oggetto si Marbles e mom's purse Ah che fan parte dell'inventario passivo Praticamente Posso tenere due trinket Tutta la run con i trinket L'obiettivo è Isaac A giudicare da quello che c'è qui sopra Con i trinket Ma non posso assimilarli i trinket Un attimo Quattro random trinket Che spawnano sul terreno Eccetera Tutti gli oggetti filistali Inclusi quelli della devil room Sono rimpiazzati con trinket Siamo sicuri E' divertente Ah no aspetta Marbles causa ad Isaac Di ingogliare i suoi trinket Ogni volta che riceve danni Ah quindi ogni volta E' quello che faceva marbles Ah pensavo fosse una schifezza Ah ok Quindi ogni volta funzionerà Non ho la più pallida idea Di quello che fanno questi trinket Ma comunque ok E' interessante L'unica cosa che mi devo danneggiare Per forza ogni volta Per questo non è divertente Ho detto che non è divertente Ah non è divertente Secondo te La sua padre diceva che era Sono facilissime divertenti No ogni volta solo Per sta challenge Se no è una sola possibilità Ah ok ok Prendi il cancro è ottimo Yeeey cancro Questo che cos'è che è pure Lo sapete gente Aspetta un attimo Azazel stamp Azazel stamp Scusatemi ma quando vorrò controllare Man mano tutti quanti i trinket Trinketto Azazel stamp Mi dà una piccola chance di Ottenere il brimstone di Di Azazel E l'abilità di volare Non male Uè doc Oggi si fanno challenge Visto che è natale È quasi natale Mmm Cancro Mmm Stamp di Azazel Cosa vuol dire stamp pure Toccolo mi sembra No Stamp Tipo un corno spezzato Usa anche Momsbox No il candy mister Misterious candy fa schifo My mysterious candy Mi sembrava Che schifo Si crea cacche random Si non è proprio il massimo Però ormai ce l'ho Questo cos'era Siringa rotta Controllare Ogni singola trinket Mi dispiaccio E' giuente Ma non voglio prendere Trinket di merda Un effetto random Delle searinge Ah no Mi sembrava Mi sembrava peggio Non prendere M Che cos'è Che cos'è Apostrofo M Scusa Ah direi che è Quell'ultimo rimasto Gli attivi saranno Rirollati Quando vengono usati Bello schifo Per fortuna che i trinket Non li devo prendere Per sbloc Per finire tutto quanto Al 100% Vi raggiungo tra poco Ok doctor Questo invece è così Vabbè Questo penso di poterlo Anche prendere Non mi sembrava poi così malaccio Ah mi sono fatto male Ah Avrebbe fatto comodo anche prima Bombe infinite Già subito Ok no In effetti è divertente Questo Questo è divertente Cosa di pesce Lo posso anche prendere Dire di sì Non dite però Purtroppo poco una sfida Perché poco una sfida Dopo dobbiamo fare altre cose Comunque abbiamo tempo Fino alle 10 e mezza Quindi Possibilità di colpi di ghiaccio Possibile 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 Aspettate un attimo Voglio assicurarmene Ah no I nemici saranno pietrificati Ok Peccato Speravo Speravo qualcosa di meglio DQ0 Benvenuto Il cubetto non è male Eh devo Devo prenderlo Però è solo una piccola possibilità E soltanto E soltanto No no E soltanto Ma dove stanno le stanze segrete Le stanze segrete ci sono Nelle Sì sì che ci sono Questo lo regalo a te Visto che siamo a Natale Puoi ricevere una visita C'è qua tua nonna Mia nonna Dai dai Su via Non perdiamo tempo In cagattelle E soprattutto Datemi dei soldi Voglio il conforto Dei soldi Non vengono i parenti Quando? Ora? Per adesso è divertente Perché dopo no Non lo sarà più No dicevo Che c'entrano i parenti Scusa Non mi è chiara Questa cosa E' vero Non ci saranno oggetti attivi Ci saranno Solo trinchetti Non faccio Lo faccio domani Questo lo piglio Stanza accanto al boss Sopra super secret Accanto al boss Sopra grazie Mille grazie Ci sarei arrivato Presto o tardi Ah beh Se le cose stanno così Ah se le cose stanno così Un corno E' vero Dovrei comunque danneggiarmi C'è la Beh c'è la curse room Volendo Posso permettermi Di andarci Il cenone Comunque lo faccio domani E dopo domani Invece vado Dalla mia Ragazza No 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 Non serve Subire danni ulteriormente Gulp Oh mi ha aumentato anche il tier rate Ma per Ok qua ho fatto una cazzata io Ma va bene lo stesso Devo usare anche il mom's drink Fantastico Questo mi piace Mom's box sempre Sì sì me ne ero quasi scordato Me ne sono ricordato due secondi fa Guardi l'item della mamma Sì è uno di quegli oggetti che solitamente snobbo Ma Ma in questo caso Direi che è piuttosto buono Direi che è piuttosto buono Molto buono Adesso sono diventato di nuovo debole Deve Deve essere un effetto random Di uno di Di uno di quei cosi di prima Di uno dei trinket Hasta la L'item della mamma Sempre Quello cos'è invece? Bats Bats Fates No questo non l'ho mai visto Mentre lo tieni All'inizio di ogni piano Questo trinket Spawna un famiglio Che Rota intorno ad Isaac Sono gli stessi Utilizzati Cioè Vengono creati dal libro delle virtù Ok Non mi Cioè Non mi dispiace Grazie Mi aspettavo il trinket Anche stavolta Qua mi avrebbe fatto comodo L'altro trinket Ah già è vero Ora che ci penso Non avrò più Non avrò modo di Di aumentare l'attacco E nient'altro Ma non era uno Il famiglio Va bene Va benissimo Spawna qualche soul A fine piano Cioè all'inizio Del piano dice La croce di legno Eh quella si Mi sembra comunque Che le statistiche Stiano cambiando Un po' A cacchio di cane Oh bene 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 Peccato che non avrò Le Ma che cosa ho preso Che rirolla tutto quanto Cancro Finchè funziona Quello cos'è Aspetta L'aspetto a me è familiare È nuovo Torn pocket Ogni volta che ricevi danni Droppi Due tipi di consumabili I droppati Possono essere varianti Del suo tipo Le troll Le bombe Possono diventare bombe troll O una moneta Può No questa no Siringa sperimentale Ah ok ok Proprio tutte le siringhe In effetti Non ce l'ho pensato Va bene va bene Comunque va bene Oh posso diventare più potente Come posso diventare più debole Speriamo che arriva anche più potente Devo trovare più che altro Cosi o trinket Che ha un No questo non mi piace Brittle bones Mi sembra Finger bone Un cuore d'osso Ogni volta che ricevi danni Va bene va bene Prendiamolo Prendere un bone heart Mi confondo sempre con gli oggetti Con altri oggetti Insomma Quindi questo va bene Questo non ho più palida idea Di cosa sia invece Forse l'ho sbloccato con Jacob Esau Possibile Un attimo solo I gemelli Quando entri in una nuova stanza Trinket ha la chance di copiare Uno dei tuoi famigli attuali Ma non ho famigli Se non hai famigli Sponerà o brother Bobby O sister Maggie Funziona solo per una stanza Ah vabbè Oh Funziona L'essenziale che funzioni Andiamo a doppiare un minion Grazie per quelli che stanno spiegando Appretto molto Chissà Forse dovrei aumentare la fortuna Per Per Adesso vediamo se riesco a Ah vabbè Ha funzionato Ha funzionato Sì Continuo a non ammazzare quello Purtroppo Mori grazie Dicevo magari La fortuna dipende dal Cosoli Da Cioè Influisce su alcuni Trinket Insomma Voilà 27 spettatori Felice Natale Per chi lo festeggia O felice Annoca O felice Blacoblarg Che non so Ma non lo so Cosa festeggiano gli altri Quel Penny Mi è nuovo Penny Benedetto Oh Mezzo Mezzo cuore d'anima Quando si prende una moneta Bellissimo Però prima mi devo fare male Mi devo fare male Aio Niente accordi col diavolo Pazienza Sai che differenza per me Uh Brain warm Buonissimo Buonissimissimissimo Me lo ricordo Deliziosi Credo di poter fare altro Almeno questo Mezzo cuore No Qua mi servirebbero Mi servirebbe la fortuna Ding warm Non era Non era brain warm Quello Oh no Ah no E' vero E' vero Niente più troll Trolle bombe Bombe troll Che bello Non devo più Temere le bombe giganti Chissà se Se mi imbatto In quei cose Che rilasciano le bombe Bombe giganti Più che altro Spero di no Penso di no Comunque visto Che sto facendo Il giro normale E non quello Ultra complicato Brain warm Si va bene Non è un problema Se ci confondiamo Con i nuovi Io sbaglio sempre Rene biker Rene biker O rain biker Non so come pronunciare In questo caso Benvenut Nella Ota community Sanno tutti Che il Natale E' una festa pagana E vabbè Pazienza Ce ne faremo una ragione Io personalmente Lo festeggio Giusto così Giusto per i lols Vabbè Scopro tutti i trinket Oggi Praticamente Oddio Questo non Non mi compare Come mai Ah no Eccolo lì invece Mom's lock Un'alta chance Di darti l'effetto Di un random item Della mamma A ogni stanza Questo potrebbe includere Anche il coltello Non male Lo festeggi sopra I regali Quali regali Io non ricevo mai niente Eh Non più Purtroppo Mezzo cuore d'anima Questo mi aggrada Occhi e danni Non poteva avere la possibilità Di trovare mangiati i passivi Non può aumentare i cuori rossi Sì sì lo so Infatti adesso sto facendo Affidamento sui 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 cuori d'anima E cuori d'osso Ah Bene Purtroppo non ho Bombe Bombe infinite Ma Ce ne faremo una ragione Chi si il trinket Devo fare altro No Tanto oggetti attivi Non ce ne stanno Oh Poveri Spiritelli Devo trovare anche Oggetti passivi Cioè oggetti passivi Trinket Che aumentano i danni Ecco Quello è abbastanza importante Oh Bombe gratis Continua Continua Prego Ancora un po' Ancora un po' Questa non è una bomba però Non avevo considerato Che lui gli spawna così Ancora Ancora Dammi altre bombe Solo allora Sarò soddisfatto Continua a non essere una bomba questa Dai Caga bombe Poche balle Poche balle Se non mi dai delle bombe Mi vedo costretto ad ammazzarti Vedi Hai visto che è successo Cos'è Tapeworm mi sembra È un worm Comunque sia Worm Dov'è che sta Dov'è cavolo sta Non è un worm No Allora è un'altra roba Mi devo essere confuso Questo qua Un friendly attack spider In una stanza stile Con i nemici Bene Prendiamolo Cambia qualcosa Se vado nella Devil room Nella angel room Io non penso Anzi Diamo un'occhiata Angel Non dice un cazzo Devil invece Devil room Inclusi nella Devil room Shop Librerie Sono Sovrascritti da Trinket Va bene Allora niente Sì no Preferisco avere La vita Direi che in questo caso Le angel room Sono più preziose Però Prima Vorrei danneggiarmi Da solo Mi voglio fare male Voglio qualsiasi cosa Che possa farmi male Non c'erano delle spine Qui da queste parti Mi sa che ho anche Spento tutte quante Le fonti di No qua non ci può essere Neanche il tesoro Forse qua No Improbabile Oh Invece sì Oh qualcosa Che mi può far male Cos'è Cos'è sta roba Oh il coltello Gulp Non era mia Intenzione Bamba sotto al negozio Apparentemente No No deve Guarda Provo qua Ma è ancora più difficile No infatti C'è la super secret Ma per la super secret Rischieremo di Di sprecare troppe robe Quindi niente da fare Via Feudable Rompi il manichino Ah che scopo Ah sì in effetti Per i soldi Non importa Non importa Presumo che tutti quanti voi Oh fantastico Festeggerete il Natale Alla vecchia maniera Col parentame Soldi Uguale blue heart Vero 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 Questo posso anche Posso permettermi di Di farlo Oh quello che cos'è invece Grazie per il coltello Di tua nonna In carriola Con il Lascia perdere Che cos'è Che cos'è Ditemi che cos'è Voglio saperlo Vediamo un po' Cos'è cos'è Penny maledetto Mentre lo tieni Sarai trasportato in una stanza random Ogni volta che prendi una No questa no Questa no Direi che questa volta non è il caso Qui invece Aspetta Questo me lo ricordo Oh com'è che era Eh vabbè Controllerò tra un minuto Mi state uccidendo tutti quanti i famigli Bastardi Sono capitati tutti quelli che inseguivano Uffa Black Vado per colore C'era già nel gioco Cioè nei Nufferber Se non sbaglio Questo qua no Ehm No Oddio No ok qui Questo non mi compare Afterbirth Trinkets Era uscito Mi sembrava con Afterbirth No evidentemente deve essere nuovo Ah eccolo qua infatti RC Remote I famigli seguono Esattamente gli stessi movimenti di Isaac Simile a Jacob Eza Al posto di Seguirli alla random Come fanno di solito Ne va la pena In questo caso Tanto minion Non ne ho Ehm Proviamolo Proviamolo Scusatemi Per fortuna Che i Trinket Non li devo prendere Per completare tutto Quanto al gioco Sarebbe stato un bel problema C'è messo un po' Per morire Questo Non mi va Cecio Grazie per il core Grazie del core Cosa abbiamo Oh bene 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 Questo mi va benissimo Mi voglio far male Qualcuno mi può far male Ho detto mi può far male Non voglio essere invincibile In queste fasi Plus Ah è vero Devo avere l'effetto Dell'occhio della mamma Visto che sto anche vomitando sangue dalla testa Provate a dirlo in giro Sto Sto vomitando sangue dalla testa Zawarudo Ma non mi interessa Zawarudo Questo mi da tipo Chiavi mi sembra Rusted key Rusty Sì più probabilità di trovare chiavi E scrigni anche Oh bene Pensavo Pensavo peggio Peccato per tutti quanti I wisps Buona legge Domani non ci si vede Buon Natale Ah ma domani non ci sono neanch'io Infatti Questa è l'ultima live dell'anno Ti ricordo Comunque grazie per il saluto Probabilmente No vabbè Non dico niente per non spoilerare Niente Qualcosa che riguarda te Comunque Le mani di scimmia Mi sa che facevano schifo Ah i cuori però Li danno Più velocità Ok Aio Ho messo un cuore d'anima Questa volta è stato un incidente Lo giuro giudici È stato un incidente Sì comunque Questa rana è interessante Magari non sarà divertente Come cacchio Ne so Tecnologia Al massimo Come cavolo si chiama Insomma Però È stimolante Insomma Non mi esplodere in faccia Grazie Mi scusi signore Curiosi Dimmi dimmi È una cosa che riguarda I re del canale Tutto qui Tutto qui Non ci concerne Al momento E dai Un cuoricino d'anima Per favore Datemelo Tanta segreta Dai Layout ingannevole Allora Ah no 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 Sono già finite le stanze Giornata la lista di re del canale Assolutamente L'ho aggiornata Prima di cominciare La live Praticamente Onde evitare Problemi Tutto quello che avevo Me l'avete negato Sì Assolutamente Non voglio mai più Incontrare coso Durante Durante la Durante la discesa Come si chiama Gridley Keeper È un segreto militare Esatto È un segreto Oh Merda Secca No va bene Va bene Va bene Deve far male il ghiaccio Vero Deve far male anche tua madre Vero Pigliatemi i miei soldi Ma te la farò comunque pagare C'è chi ruba un brutto bambino Mentre tu sorseggi un cappuccino Il tappo cos'è che era Cork qualcosa mi sembra Cork Cork screw Incre... Aumenta il radius dei creep che Ah sì Delle sci che rilasci Va bene Ok Non che stia rilasciando nulla Al momento Anche perché Non credo di riuscire a trovare Nulla che possa Darmi quel potere lì Però c'è Curse room Vediamo forse C'è una stanza segreta Al centro Controlliamo No è impossibile Un'occhiata al volo Possibilmente qua Ah Stupida cacca Oh cazzo Funzionato Monete 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 di conseguenza Cori Obiettivi di oggi Obiettivi di oggi Intanto buon Natale Comunque si E buona vigilia Ma insomma rendo l'idea Obiettivi di oggi Sfusi Gli obiettivi li regalo a voi Praticamente Devo danneggiarmi? Non credo Gli obiettivi sono un regalo Un regalo di Natale Cosa vedono Le mie foch Che pupille Vedono delle cose Che Magari Aspettate eh Sto provando a vedere Se per caso mi trasforma in Azzazel O dura un paio di distanze Proviamo Uh bene Quanto mi piace Trasformare i nemici In ghiaccio E' uno dei potenziamenti Più appaganti Assieme a quella A quella roba Che non ho ancora trovato Della mano Di Big Horn Che spunta dal terreno Immagino vada bene Oh Gradisco Peccato per Perché L'unico cuore D'anima che ho trovato Ma per il resto Sono appagato Qua direi Possiamo provare A prendere uno scrigno Che non è maledetto Una volta tanto Ghiaccino Perché siamo stati Bambini buoni Vero Voi si Io non posso dirlo Con certezza Perché ho avuto Dei momenti Molto Oh no Quello lì fa schifo Perché ho avuto Dei momenti Un po' strani Però questo per me È stato un anno Di Non saprei se dire Rinascita Qualcosa di simile Però insomma È stato un anno Che mi ha permesso Di Ricominciare emotivamente È stato probabilmente Un'esperienza necessaria Insomma Telescope lens Anche se qui inutile Perché Per le cose Per le I planetari Vero? Sì Purtroppo I planetari In questa run Non saranno Non saranno Non conterranno Nulla di utile Ma Corona sacra Questo Forse l'avevo trovato In passato E Iterrums E shop Di apparire La cattedrale Fantastico Ancora meglio Ouch E anche lo shop Minchia Sei velocissimo A scrivere Comunque Che fine ha fatto Il delay Di 10 secondi Pica 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 Run Pica 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 Ma perché Pica Run Ha un'origine Specifica Sto Pica Run Esattamente È una citazione Qualcosa Oh adesso A Zazzel Dopo due ore Rimango a Zazzel Però Quindi forse Posso entrare Nella Curse Room Cioè Curse Room La stanza Con i Cursed Chests Più che altro Tutto quanto Oddio Cos'è quello Questo va benissimo No Questo non lo so Ne avevo visto uno Che era al contrario Però Item Room Apparire A Sheol Fantasticissimo Anche se A Sheol Non ci andrò Che faccio Lo prendo Ma sì Tanto Tanto posso Posso scambiarli Eventualmente La pica È Il mangiare Persistente Di alimenti Non nutritivi What Non ricordo Se ho provato Ok Non alimentare Per Meno Di un mese Quando è inadeguato Lo sviluppo Minchia Quanta Non me lo aspettavo Così complicata Sta cosa Cioè Non è complicata Però Insomma La rendiamo tale Noi Soprattutto Gli ignoranti Come me Perché sono Un brutto Ignorante Orribile Schifoso Uccidibile No Non più Non più Sono cambiata Non sono più Quello di una volta Ah 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 Tanto ti sparisce Grazie Vediamo cos'è Una cassa toracica Hello Heart Ti dà Un cuore D'osso Ogni volta Che entri In un nuovo piano Ma è fantastico Però Magari sostituisco Quello con Sheol Visto che devo andare Ad affrontare Comunque Isaac Se non sbaglio Se non sbaglio Non ne sono sicuro Ma credo sia lui Visto che questa roba qua Non c'era in passato Ecco lo vedi Ora sono un brutto Orribile Vecchio Bilioso Non va l'ordo Comunque Hai colto la cittazio No Scusa Grazie Molto gentile Bene Con le monete Si fa Diamond tail Vediamo un po' Questo Dovrei ricordarmelo Visto che c'è dall'inizio 80% dei cuori Sono rimpiazzati da chiavi No Questo Questo no Questo no Questo direi che lo Mollo lì volentieri Cioè ma che effetto strano Perché dovrebbe fare questo I cuori diventano Cuori neri Dove è possibile Questo non converte I cuori Che vengono droppati Prima di aver preso Questo oggetto Ok Non so Penso che i cuori I cuori mi siano più utili In questo caso Comunque Visto che avrò L'80% di cuori in meno Voglio dire Dipende sempre dal drop di cuori Tecnicamente Non dovrebbe essere Neanche modalità difficile A giudicare Dalla mancanza Del simbolo analogo Sì vabbè dai Teniamoci i cuori Tradimento Vediamo se riesco Muro Più Più chest Ah nel muro Non c'era niente Alla fine Dai qua ci deve essere No Non c'è Sono doppiamente deluso Allora Mostro Non vedi che sono occupato Devo solo ammassare Te e tutti quanti I tuoi parenti Direi Scusa Puoi mostrarmi Il tuo orribilissimo volto Te ne sarai molto grato Sono molto meno grato Di questo attacco Però Oh cavolo Questo cos'è Una specie di budino Vediamo Vediamo Modeling clay In ogni stanza Trinket Ha la chance Di trasformarsi In una copia Di un Oggetto passivo Random Che ti dà un effetto Per la durata Di questa stanza Questo è rischioso Beh dipende Credo dipende Dall'oggetto Però hai ragione Se ci sono oggetti passivi Orribili In effetti No 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 Forse hai ragione Hai ragione Non ci avevo pensato Adeguatamente Questa volta Peccato però Perché non vedi l'oggetto Infatti infatti No 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 Schippiamo Schippiamo volentieri Intanto che siamo Intanto che siamo Qui tra amici Insomma Ci sono altre sfide Diciamo a tema natalizio Che potrei fare In Isaac Oltre a quelle Insomma relative A Dio E compagnia bella Non si è perfumato In ghiaccio Questo mi 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 sa che era Un oggetto Non buono Questo Mi ricorda qualcosa Ringcap Droppa due bombe A volta E solo una bomba Viene rimossa Al totale No questa non è male In realtà Mi sembrava un altro oggetto Allora Quello che avevo detto Perché bestemmi Forse Vabbè Quelle si sprecano Bestemmi Come sempre Buonasera a tutti Quelli che si collegano Si buona vigilia Naturalmente Non serve che lo dica Però lo dirò ugualmente Perché non si sa Un po' troppi Meglio Meglio controllare Se trovo magari La cosa Lì La La chimica No Se trovo la Ah beh Ha funzionato però Se trovo la La chiave infinita Non mi sembrava buono Questo Beh comunque Questa sfida È un ottimo modo Per far pratica Con gli oggetti Insomma Con i trinket Quando ricevi il danno Mentre hai mezzo cuore Verrai trasportato Alla stanza precedente No Ah giusto È vero È vero che du Ah no ecco Come non detto È random Non per niente Che pizza Le richiamo immaginato Ti vestissi Di tema natalizio Eh non dispongo Di vestiti natalizi Ahimè Questo cos'è Che fa pure Spona Spona l'uccello Se mi Spona l'uccello Spona il corvo Se mi Se mi Se mi colpiscono Mi pare Qua No no Quando uccidi Un nemico Hai lasciato Sponare Un uccello Trasparente L'uccello Infligge Due danni Per tick Quindi quando Uccido Un nemico Pensavo Al contrario Vabbè Poco importa Due minuti Di ritardo Questo Prendi anche Buon art Vuoto Vero Verissimo Non so proprio Sul pezzo Oggi Un vero peccato Controlliamo Tutte le stanze Anche qua Mi servirebbe Il volo Aspetta Questo però Lo posso Prendere E lo Prenderò Ho sentito Un tintinio E' quel tintinio Che mi piace Tanto Quello lì sotto Però non lo Tocco Ah no Invece lo Tocco Che cavolo Dico Lo tocco E come Quello Perché così Ricevo danni E deglutisco Tutto Quanto Quindi Apriti Aia Che dolore Mi hai fatto Male Lockdown Dio Vede Va bene Questo va bene Che altro ci può essere Vediamo un po' Non credo Che faccia differenza Con chi completo Il Il La run Insomma Do comunque Un'occhiata Se è quello Che penso io Il Lank Rotto Sì Sì Divento il blue baby Se muoio Ho il 33% Di probabilità Il cuore Potrei comprarlo Ma non lo farò Minchia Tre bombini una volta Non potevo farlo Solo Solo Cioè Non ne spawnava Soltanto una Non diceva così Almeno la guida O mi ha mentito La guida Mi ha mentito Sì Adesso Sono tre Forse C'è una sinergia Ai Che dolor Uh Che bello Invece questo Il mio Il mio Wisp Una di queste Dovrà pure esplodere Di fronte Alla Porta Suicide King No 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 Questo sarebbe Molto spiacevole Ma non sbaglio Che raddoppia Le fatti dei trinket Ah li raddoppia pure Che memoria Di merda Sono un caso Disperato Buona vigilia Che si collega ora Naturalmente Presto 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 Gli scrigni Gli scrigni Non ho Non credo Di avere ancora Abbastanza Così Cos'è Era walk Cos'è era walk Pure Mi Mi da Tre carte O mi rende più grosso Mi sa che mi rende più grosso Per un po' Oh cielo Oh cielo Uno per volta Ma come ancora Due Ah no aspetta È vero L'avevo cosato con l'altro No 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 Allora Non ho idea di cosa sia quel cosino piccolo Ciao Forge Lord Auguri Cos'è sta roba Dingleberry Due friendly dips Quando Finisce una stanza Dip che spanno dopo Aver ucciso uno squirt Diventano amichevoli Ok Immagino si possa fare Dunque Mi devo far male Anche stavolta Devo farmi male In qualche modo Fatemi male Grazie L'Alzheimer si fa sentire Sì ma io proprio Sono messo così Di defondo Alzheimer O non Alzheimer La mia memoria Resta Merdosa Presto Presto Che sono tornato così No Quello fa schifo invece Dunque La piuma Del taglio Grazie È il taglio più neutrale Che possa avere Praticamente Mi piace molto Dunque Queste possibilità Di colpi avvelenati La locusta rossa Beh potrei anche prenderla Di la verità In questo caso L'Ank Il coso Dell'oggetto attivo La piuma La locusta Potrei usarli tutti È la piuma Che non ricordo Un attimo solo Che do un'occhiata Dovrebbe essere Che pizza Rebirth Ah no era di afterbirth 0,2 danni Per ogni oggetto Malvagio Che hai Ma io non ho oggetti Malvagio Non ne ho Quindi posso anche Schipparla Bene Rubini interessanti Per il 2022 Beh intanto ci sarà Un bel cambiamento Con la grafica Sappiate questo Vi piacerà Ne sono sicuro Non è che qualcuno Di sti scheletri Cioè di sti teschi Può trasformarsi In qualcosa di Va bene Era walk Penso di poter Prendere la runa nera A sto punto Questo cos'era Invece l'imperatrice Anche questo non è male La runa nera Mi fa assorbire Cos'è che mi fa assorbire Sono gli oggetti attivi No? Dunque La locusta rossa Sì E anche questo E' difficile Che non utilizzi Lo scrigno Della mamma Però Butta via Ok Teschi Tocca ancora a voi Questo Non è quello che volevo Però va bene Lo stesso Fantastico Oh sì Questa sfida Proprio divertente Una delle poche volte Che mi diverto In maniera attiva In Isaac Praticamente Devo farmi male Fatemi male Feritemi Non Accidenti La 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 Devo farmi male Qualcuno Mi ferisca Per favore Ah Grazie Molte Grazie Due locuste Tra l'altro Che lo divertete Per me Rimane la migliore Molto stimolante Come ho detto Prima E' bellina Proprio bellina Bellina Quindi Adesso Anche due locuste Per ogni Coso E Quando carico Il pic Quando carico La scatola Della mamma Insomma Aumenterò Le mie Stats Andiamo In ogni Stanza Che non Si sa Mai Possiamo Farlo Una volta Tanto Non dobbiamo Schivare I nemici Cacchio Che strano Concetto Magari Non esplodete Mi proprio In faccia Quello Non mi piacerebbe Molto Questo Invece Ottimo Esatto Contrario Di quello Di prima Oh Che Disdetta Mi hanno Ferito Puoi Venire sopra Grazie Il folle Non mi serve Ruota Della fortuna Quella sbagliata Non mi serve Ho finito le bombe Va bene Negozio Dov'è il negozio? Giù Dammi una lametta Che mi taglio le vene What for? Perché mai tu dice questo? Oh già Il cuore d'oro Mi ero scordato Quello lo prendo E come lo prendo? Visto che non ho le bombe Non lo so È giusta quella Spawn a trinket Quella quale Scusa Parli del Del Della lampadina rotta Bomba La macchinetta Ah Ah è vero Che spawno i trinket Meno male che ho finito Le 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 cose Lì Le 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 bombe al momento giusto Allora E ho un sacco di soldi Tra l'altro C'è chi c'è chi c'è? Dark Ai 91 Benvenuto Nella otta community E Auguri di buon natale Naturalmente Carte Che dite? Esploderà E non mi darà Una sverda di niente Io direi che è anche possibile Fantastico Dici di voler Tiffare male Quindi siamo Quelli che stanno Da soli Ma questo Oh fantastico Visto? Che vi dicevo Stat booster Il folle Come dicevo Non mi serve L'imperatrice è meglio Matchstick Però mi devo sempre Far del male Quindi Si va Nella stanza Maledetta Visto che ho Abbondanza di cuore Una volta tanto Colpitemi Se vi riesce Ve l'ho fatta Ora Cuore d'oro Auguri anche a te Ma figurati Grazie mille Nuovo Tuo E di felicità Nuovo E di naturale Oh Cuore del cuore nero Tra l'altro Il carro L'imperatrice C'è forse L'imperatrice In questo caso Voglio dire Le lacrime E le gimmick Le gimmick Sicuramente Non mi Non mi Mancano Oh no Un altro Stronzo Ok Ci ha messo un po' Per cadere Il resto Stronzetto Oh è vero Questo Mi avevate parlato Di sto oggetto Cos'è tipo Aumenta la frequenza Le lacrime Ma solo a random Fatemi controllare Cosa fa il cuore giallo È una È un Posso subire un colpo in più E Ah le cacchine Mi potenziano Posso subire Un colpo in più E quando mi colpiscono Rilascio un sacco di monete Questo Questo me lo ricordo Grazie al cielo Visto che mi capita spesso Dunque Dove ero rimasto Ah gli occhiali rotti Gli occhiali rotti 33% Di probabilità Di sponare Un altro Oggetto Cieco Insomma Di cecità O Tipo non visto Ecco Probabilmente non visto In tutte le future stanze Degli oggetti Eh Ma gli oggetti Tanto io non ne avrò Quindi Ti permette di vedere Quali Quali sono Entrame gli oggetti Ah Nelle altre stanze Tipo miniere Ashpit Gahen Mausoleo Da un pure dross Va bene Vedo che fa random Dunque qui cosa abbiamo invece Aspetta un attimo Questo non è No Questo è un altro nuovo Infatti Questo è No All'oltre L'utero Insomma Anzi Il grembo Rimpiazza tutti quanti Quare monete Con random pickups Ah Eh però mi servono Bombe 26,6% di possibilità Cuore 26,6% Pillole 16 Carte 16 Trinket 6 Batterie 6 E aggiunge E aggiunge anche 20% di probabilità Di spawnare Una mosca Se la moneta Original Era Era una moneta Aspetta Se il drop Original Era una moneta Non spawna In modalità Grid Non sarebbe male Ma Non sono molto sicuro Circa I cuori Svelare l'oggetto misterioso Vedere Da un po' Ma in smusola Rivelare Quelli di piani alternativi Sì 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 Avevo Cioè Sì Vabbè Avevo capito Avevo capito Vabbè Questo lo possiamo provare Alla fine Aumentalo Perché ci sono le cacchette sante Sì È per questo Che fa avanti e indietro Avevo capito Vabbè Proviamo sto Magari Non deglutisco Ancora Gli oggetti Lasciamo perdere Gli angeli Anche perché Mancherà poco Non voglio correre rischi Proprio Indirittura D'arrivo Dunk Daps Infatti Manca solo questo Dunque Voglio vedere se Effettivamente Drop altre cose Ok ok È solo una possibilità Quindi Non 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 trasforma Tutti quanti gli oggetti In quelle cose lì Si può anche fare Momsbox Si volevo prima controllare Sta roba però Questo cos'è pure Cellula staminale Mi sembra E fa Cura i cuori di Isaac Al 50% A ogni piano Ti cura A ogni camion di piano Si però per ora Oh no Aspetta In realtà Non ho bisogno Vabbè Intanto possiamo anche farci male Che con questi trinket Si è messi abbastanza bene Si non Non trasforma tutto quanto Infatti L'ennesima prova è qua Purtroppo mi tocca Sacrificare Sacrificare questo Ma va bene lo stesso Funziona Da utero e poi Perché le chiavi bomba Servono meno Va bene Va bene lo stesso Non ci avevo pensato Ma è uguale Questo Questa è più carica Mi sembra Ah È vero È il doppio oggetto No va bene Va bene Allora Cellule stanimali Sinistra era buono Beh anche questo qua Non era malaccio In realtà Ho dato la priorità A quello che Quelli che mi ricordavo di più Mi devo ancora far male Qua c'è la carta Del folle Ma non mi interessa Una volta tanto Razza di pasticcioni Che combinate Adesso L'ho bianco L'ho freddo Mom's box È sempre una roba Relativa all'utero Me lo ricordo Dunque Le item room Compaiono Nell'utero Nel Nel grembo E nel grembo Cicatrizzato Insomma E anche E anche al cadavere Bene Prendiamolo Salve tutti quelli Che si collegano adesso Naturalmente Buon Natale Yadda yadda Cos'ho droppato Ah c'è lo resta animali Daminali So che è così Ma Prendo per il culo Porca vacca Possibile che uno Non può farsi male In santa pace Anche questi sono ottimi Dunque qui Posso farmi male Mi sono fatto male Bene E adesso me ne farò Ancora di più Ogni volta che parlo Si si leva a zazzle Si vabbè Ma anche se si leva a zazzle Cosa cambia Scusa Questo cos'è invece Anzuz Ah Buono IAUCH 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 Il culetto La popò Cosa fare Non lo so Nel culetto La popò Non mi ricordo Come fa la canzone So Ricordo solo Che è da Rick e Morty Tutto qua Ammazza i nemici Diventano di ghiaccio Cos'è Shiny Rock Fantastico Mi sa che avrò Tipo Trinket Infinity Ma è possibile Rompere il gioco Con In questa modalità In Picaran Anche su PC Intendo Non mi sono lasciato Indietro E su un Trinket L'hai già rotto No ma Non comincia a glitchare Questo che dico A me è capitato Una volta Di Di Rompere il gioco Nel senso di glitcharlo Mentre ero in Cos'è Grid Mode Mentre Usando quelle splu Lì Della carta vuota E Due di Due di quadri Cos'era questo Non me lo ricordo Mai Piccola larva Distruggere le cacche Ti dà Una 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 mosca Tranquillo Con Repenters Possono accadere cose Eh beh Anche in Afterbirth Non era da meno Dunque Questo lo prendo Questo lo prendo Questo pure Oh madre Mi hai fatto deglutire la mia cena Ah beh Qua non posso Avere altro Insomma Posso fare ancora accordi Ma gli accordi qua Non valgono Da sbloccare di sfide Quella sotto Red Redemption L'hai sbloccata Red Redemption Mi sembra di avere sbloccate Tutte quelle Di 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 Repenters Meno quella In cui devo Finire il gioco Con Bethany Mi sembra Ora prendo un cuore intero Sì 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 Lo so Lo so Devo stare all'occhio Guarda quante cacca Che mi trascino dietro Qualcuno facci qualcosa Grazie per la popò Mazza quante mosche Grazie per la zazzel La zazzelo Uh Aspetta Quello mi sembrava buono Ma forse Era anche uno schifo E gli oggetti No Gli effetti delle lacrime random Hanno una chance extra Di comparire Insomma Le chance addizionali Al 3% Ah cacchio Cioè al 3% 3 punti di fortuna Purtroppo ne ho soltanto 2 Scusate un attimo eh È il freddo questo È il freddo Ciao Holger Buon Natale Buona Vigilia Vigilia Dunque I cuori Prendo un cuore intero Si era detto Ma non mi spaventa Tutto ciò Grazie per le stanze Quello oggetto Questo cos'è Sempre Ansu's Vision E usiamo sto Ansu's V Questo cos'era invece Posso tu vedere La tua destinazione Ah si Non lo so È tutto molto bello In realtà Devo trovare delle spine O farmi del male In qualche modo alternativo Vediamo un po' C'ho sian Oh c'è anche il planetario Però stavolta ho il 15% Di probabilità Fatemi danneggiare Oh ecco grazie Il carro Bene direi che è il caso Oh ho sbagliato Direzione sbagliata Testa di pesce Bene Eccolo qua il cuore Facciamo anche sta sfida Tanto si può L'esplosione L'esplosione Mentre Distruggevo Il chest Mi è nuova Locusta nera Nice Nice Wonderful Better than mama Il fungo No Il fungo Non mi sembra La migliore delle idee Io ancora A sto punto fai prima Non è che me ne levano Di più però Mentre sono qua Mentre sono nel Nel Cos'è questo Ah nell'utero XL Tra l'altro No teniamoci Algiz Si sa mai Cacca LGBT Prima volta che la vedo Pazzesca Ah beh cos'è Tipo muoiono E mi curano Qualcosa di simile Se funzionano Se funzionano Allo stesso modo Del Non avevo lasciato Dei trinket qua Ah no era qui Vediamo un po' Se funziona Ma non Ma non mi ha Fatto un cazzo Perché non mi ha Fatto un cazzo Ok ok Funziona Funziona ugualmente Allora la bomba Che scopre I bomba Comunque sono forti Sti cagottini Sono Sono simpatici Mi piace come Aggiunta in Repentance La Repentenza Ma che sfida è? È una sfida In goia trinket Praticamente Ed è molto Divertente Ricordiamoci Il planeario Non fa differenza No in realtà Può fare la differenza Perché può Darmi più Penni E di conseguenza E di conseguenza Il plane Visto che possono Droppare A me Le Possono dropparmi I cuori d'anima È praticamente Invincibilità Più o meno Garantita Non trovavo Un coltello Abbondanza gera Anche quello Non è male Non me lo ricordo So solo che Riguarda la cacca Questo è sicuro Anche questo Di Afterbirth Ti dà l'effetto Scatola Solo in certe stanze E trasformerà Mosche ostili In neutrali E fermerà altre Dallo sparare Va bene Lo tengo Che bel planetario Un bel planetario Di merda Ouch L'avevo capito Che era un pannolino Usato Comunque Era abbastanza Ovvio Aggiungerei Questo cos'è Ah è vero Ve ne ero scordato Beh Colpi che inseguono Fantastico No Ripreferisco Algiz Al momento O Algiz Algiz Lo prendo Tanto Che abbia Tutta la carica Dell'oggetto attivo Che non ne abbia In un modo o nell'altro Sono sempre potenziato Baccam Benvenuto Nella OTA community Vi ricordo Che oggi staremo In live Fino alle Dieci e mezza Massimo Causa Il trucco Rimane Sulle Sulla bocca Quando sputa sangue Dicevo Restiamo in live Fino alle dieci In mezza Circa Possibilmente La carica La prendo dopo Uso un trinket Mom's kiss Oh beh Abbiamo trovato Il modo Di potenziare La nostra La nostra La nostra La nostra salute Però prima Meglio che Ecco Ma perché ogni tanto Sono immune alle bombe Non capisco Non che mi lamenti Di ciò Più carica Vai a messa No no Io Ota kumen A messa Proprio no Guardate quante Quante belle statistiche Bombe infinite Wow Di bene in meglio La cartaccia Lì Non saprei Mi conviene A sto punto Il gioco È già rotto Ormai In un modo Nell'altro È già rotto Avevo capito Che scherzavi L'avevo L'avevo Immaginato L'avevo Immaginato Questo Da ricompensa Alternative Se si affrontano Gli angeli Ma Non mi servirà Visto che gli angeli Non li affronterò Visto che Isaac In un modo Nell'altro L'affronterò A prescindere Bellino Sto effetto Del cubo Non doveva esserci Un altro Ah si infatti C'è Andiamoci direttamente Con questo Se mi porta Là Mi ha portato Al planetario Per qualche motivo Vaffanculo A sto punto Abbondanza Posso No immagino Di non poter Raddoppiare i trinket Oddio Non ci ho mai Fatto caso Non ho mai Dato importanza Ai trinket Da moltiplicare Tutte cose Relative Alla carica E ai Minion La super segreta La ignoriamo No però Insomma Voglio Voglio prima Volevo prima Prendere l'oggetto Quello cos'era pure Ah aumenta Le cose Legate alle statistiche Va bene Posso Posso prendere Anche questo Cos'è questo Ah si Quello che mi scordo Sempre Assieme a tutti Gli altri Insomma Più o meno E così Cosa masticata Chance di rallentare I nemici Affare fatto Ouch Grazie per la carica Gerald Mago No Tecnicamente Ma non ho ingoiato Il cucchiaio Oh Va Protezione fetale E fatale Soprattutto Fatal protection Cosa abbiamo Cosa abbiamo Cos'è quello Oppure Uh Anche questo Non è male Vabbè Questo lo posso Prendere In ogni caso Ups Mi ero scordato Che avevo I cuori di scheletro Vabbè Ci sono un po' Di cuori d'anima Sparsi in giro Nel livello La prossima live È il 3 gennaio Praticamente sì La prossima settimana Io me la prendo Come Sabbatica Cricket lag Vediamo un po' Che cosa fa Ogni volta Ogni volta che un nemico Muore Hai la chance Di ottenere Una locusta Siamo Basiamo il nostro Gameplay Sulle locuste E le mosche Oggi Guardate che legione Che mi porto Appresso Senza contare Le Merde Dove sta la merda Ho sentito una scoreggia Ma non vedo la merda Il gioco è già È sufficientemente rotto Direi Gli occhi e croce Ora Super segreta La super segreta Trattasi di stanza Completamente inutile Cos'è Kids Drawing Cos'è Mi fa spawnare i gatti Conta come uno dei tre oggetti Ah Conta come La trasforma Come uno di quegli oggetti Che ti servono Che servono Per trasformarsi In gatti Rimuove la trasformazione Ah Finisce lì L'effetto Vabbè Poteva andare peggio Oh È un oggetto Di gatti Gratis Comunque L'imperatrice Intanto Mi Dilanio Da solo Ecco qua Non c'era Non c'era dell'altro Non c'era dell'altro Sicuro ci fosse un altro cuore d'anima Da queste parti Evidentemente sbagliamo Servirebbe Hivemind Eh sì Servirebbe Purtroppo In negozi No Aspetta I negozi Non ci dovrebbero essere Non avevo trovato una cosa Legata I negozi Forse un piano XL Non vale Vabbè Affrontiamo i boss Andiamo Guardate Ammazzato Ammazzato Soltanto con quello Un'altra stanza segreta Mi piace Bastano soltanto le mosche Per ammazzare Guardate Guardate Non l'ho dovuta neanche attaccare Il diavolo Eh credo che Imperatrice sia meglio però Cos'è questo? Ehm Cos'è? Le lacrime che vanno all'infinito Mi pare Quando lo tieni C'è una piccola chance C'è una piccola chance Quando usi una carta Una pillola Che verrà droppata Ah Pensavo fosse un'altra cosa Devo essermi confuso Bene Via Come il più classico degli overlof Fai fare tutto ai minion Ebbè Perché io sono un signore Non sono un overlord qualunque Sono solo un overlord normale Ehm Su Portiamolo su 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 Comunque 43 spettatori Questo mi piace Soprattutto alla vigilia di Natale Vuol dire molto Per il mio cuore Comunque Questo è l'ultimo livello Che possiamo fare Ehm Nella Picaran E' stata molto divertente Grazie a quelli che mi hanno consigliato Ehm Dicevo Ehm Qualcosa a tema natalizio Su Isaac Cos'altro possiamo fare? Si accettano consigli Visto che non ci saranno obiettivi specifici Iiii Durante Aio Ueh là Questo viola cos'è Ehm Ogni volta che entri in una stanza completamente nuova E la chance di Avere l'effetto di un dice Ehm No 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 Questo è rischioso Trepprische Perché ti metti le bombe sotto i piedi? Perché mi voglio danneggiare Per poter Ehm Assimilare i trinket E' una strategia questa Grazie Ehm Solo per Solo per la Picaran Oh oh Questo non so cos'è 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 Questo blocco di carne Ehm Segue i suoi movimenti Può essere un mosso Non può rispondere nella stanza di fianco Sì buono Mi sembra decente questo Qui Ehm Oddio non lo so Qui proprio non mi cogliete preparato Ancora Questa non l'avevo già preso prima Qualcosa che possa farmi male Grazie Cos'era Pill cap Mi sembra Safety cap Una chance maggiore di ottenere pillole Nye Questo pc si potrebbe fare Cosa è? Mod di Isaac Ti vogliono giocare un personaggio di Undertale Ah Ce ne sono un sacco di quelle Oh ma cacchio Vabbè davvero la saga delle locuste Sagra Delle locuste Vediamo un po' Cos'è questo? Non me lo ricordo Ma lo tengo ugualmente Non prendere il sacchetto Che c'è lì Per favore Facciamo fare tutto quanto Ai cosi Naturalmente Ai minion E alle locuste Grande chauvan Ehm Forse nessuno dei due Questo però lo prendo Sì direi anch'io Nessuno dei due Mi saccate prendo Si dovete tornare un HP up Dopo che ricevo dei danni Ah ok La mia memoria È proprio una merda Mi servirebbe Una runa tipo Anzu Uh aspetta un attimo Anzu Facciamo così intanto E non mi son fatto male Per qualche motivo Continua a non essermi fatto male Dunque dove è l'altro Qua Gemini Che cavolo ci fa Gemini Perché avevo il gemellino Attaccato stavolta Mi sembra che sia buono Questo L'accendino L'accendino I nemici possono bruciare Mentre entri in una stanza E dipende dalla fortuna Da dover cambiare Fortuna giù Con imperatrici Come se cambia attualmente Non penso che faccia Ho visto che al posto di imperatrice Ho quello Però intanto controllo Se ci sono altri oggetti Che posso usare Al suo posto Uh cos'è che era quello Non mi ricordo mica Non mi sembrava fosse Una cosa buona però Vermi Vermi neri Vediamo un po' Questo c'era anche Nell'altro gioco Range up Tears up Diventano spettrali E però vanno a spirale Ecco no 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 La spirale non la voglio Grazie Col trick del cordone umbilicale Ah ok Amo ogni morte di papa Evidentemente O sceno Quel trick Sono d'accordo Oh no Non colpite il nemico Che ha la barriera Testa di tonno Ancora una cosa A spirale No Non voglio nessun verme Meno quello del cervello Che è bellino Proprio bellino Bellino Questo cos'è L'imperatore Vabbè ormai Oh no Ho cambiato il design Anche di questo Oh no Vabbè Non cambia nulla ormai Però Chiave di cristallo Vabbè La controllo adesso Chiave di cristallo Chiave di cristallo Quando finisce una stanza C'è la possibilità di Far comparire Una stanza rossa Ma proprio adesso Che vi manca una stanza Per finire la partita Diamine Che cavoli Potevate farvelo trovare Un pochino prima Cristo a pedali Un po' tardi Per la chiave di cristallo E appunto E virgola E altamente ingiusto Comunque chiave di cristallo Mi piace come descrizione Ammazziamo Isaac Con Isaac Guarda Ma che disastro Due secondi Mi è durato È stata una bella sfida Comunque sia Ora Abbiamo concluso Ho appena sbloccato Un oggetto Che potrebbe piacermi Ice Ah ma il trinket di prima Vabbè Comunque mi piace ugualmente Va bene Va bene Special seeds Doc Però qui Special seeds Vorrei fare qualcosa Che mi permette di Sbloccare Cose nuove Insomma Tricky pick up Tricky pick up No infatti Questi qua Disabilitano Gli achievement A meno La maggior parte di questi C'è gone soon Che mi serviva Per una sfida Che però Ho già completato Accidenti Trinket che avevo preso All'inizio Oh va bene Intanto abbiamo sbloccato Una cosa Che ore sono 19.40 Abbiamo ancora tempo Per Due Tre run Circa Bethany Uccidi Sad Quando sblocchi L'ultima challenge Scrivi Ho 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 Nel seed What Aspetta Perché cambia qualcosa Dunque Com'è che era Input a seed Si è sbloccato Sfida 45 Ok Ah è un easter egg E' un easter egg Carino E' una di quelle Non mi disabilita Gli achievement Bello Bellino Per rispondere Comunque Si la sfida Quarant Mi pare Mi pare Mi pare che qualcosa Non quadri Qua Ha programmato male il gioco Cos'è sta roba Io ho paura A cliccarci sopra Ah la 45 Fuori dalla lista Ah ok Fantastico E' un baccello Questa sfida Clicca Sig E' natalizia Almeno Oh madonna santa Non ditemi che è così Vedete solo che Ma qualcuno Qualcuno si è fregato Il livello Ci hanno fregato Il livello Ma dov'è che bisogna andare Blue baby Tra l'altro Ma è glitch Perché Perché sta roccia È diversa dall'altra E' Oddio mio Ma che cazzo Mi state facendo fare Walk to the binding of glitch Oddio mio Ma che Che cosa Sto facendo E' una sfida Glitchata Oddio mio Voglio vedere che cazzo succede Quando arriva il boss Scusatemi Ma la 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 Curiosità La meglio Beh almeno le bombe Contano comunque come bombe Non è come quell'oggetto Che ti randomizza No era una sfida Che ti randomizza Monete I pickups E tutto il resto Vedi quell'oggetto con cui inizi Ecco preparati Che cos'è Ah bene Buon inizio Trinket Melter Come trinket Melter Questo non è Trinket Non è trinket Melter Questo doveva darmi Dell'attacco Sta Devo trovare un trinket April's full Oh ecco sì Quella sfida lì L'ho L'ho odiata Glinciato Madonna santa Che sto facendo Che cos'è sta roba 94 centesimi Ma siete pazzi Cos'è sta roba Cos'è sta roba qui Questo lo compro giusto perché Prendilo però Oh mio Che cos'è sta roba Madonna santa Almeno non è in modalità difficile Butta via Mi ricordi Le sfide non sono in modalità difficile Non tutte almeno Devo trovare un trinket Il sole funzionerà come il sole però Oh merda Ma questa è una stanza doppia Ma c'è il Il background solo nella parte superiore Cosa sto facendo The binding of spam Spam Spamton G Spamton Pwz Fan Fan already Spero di averlo pruggiato bene PMZ Fan already Allora Benvenuto nella auto community Il sole Ah beh Almeno baby plum è normale Bene Grazie grazie al cielo Il boss Non fa Insomma Non si agita più Di quanto dovrebbe Prova l'attivo Ok Oh madonna Questo Questo non è Trinket Non è affatto Trinket smelter E perché ha funzionato Anche come Come boomerang E perché mi ha fatto fare Soltanto una scossa E basta E non E nessun'altra Se ti capita Quello buono Hai vinto subito Questo non mi sembra Non è cambiato niente Praticamente Devo arrivare fino al blue baby Vero? Ok Oddio mio Cosa sto facendo Cerchio di P Non ho idea di che cosa Oh no È quel coso lì Che spona le Ma non è un oggetto attivo Quello Ti spono nemici Ogni 3x2 A caso Questa sarà una run Molto complicata Però Però Si prospetta divertente Natalizia Natalizia per l'anima Della cippa Però Però va bene Va bene Almeno è qualcosa di nuovo Dai Al di fuori delle Biblioteche Biblioteca Le carte funzionano Normalmente Almeno questo Grazie La chiave mi serve Me ne serve Più di una Dire la verità Però anche Cioè Anche nella Ha trasformato Tutti i pick up In Lacrime Chiodo Che sono poi Sparite Che cazzo Mi serviva La chiave Diomede Ma quella chiave Mi serviva Vesti Universo E pecora Perché ho fatto così Perché quel nemico Era abbaffato Solo per Preparatevi a molti Perché Preparatevi a molti Perché Perché sono Confusissimo Oh Madonna Madonna sacra Con che criterio Spona Le mosche Mitraglia Guarda Devo andare a sbattere Contro qualcosa Tainted Ah qui è vero Cazzo Questa non l'avrei vista Probabilmente Che cazzo è Non ho scattato Ma ho fatto tipo Marte per mezzo secondo Madonna sacra Io a sto punto Proverai anche le pillole Amnesia Fantastico Di tutte le pillole Mi è capitata questa Riproviamo Questo che fa Credo sia il boomerang E una scoreggia Simultaneamente Non ho toccato niente Non ho toccato niente Fa tutto da solo Fatemi trovare Delle chiavi Per favore Ho bisogno Di qualunque cosa A sto punto Perché sto cosa È così blu Ah no è vero Non sono tainted Non sono tainted Sono solo Glicciate Ste pietre Non sono tainted Non sono tainted Sembrano Ma non lo sono Anche sto fungo blu Mi sa che tipo Ogni x passi Mi spawna Una di queste mosche qui Ma dove sono Ah ok È sempre la stessa stanza Almeno questo Il gioco sta morendo La mia logica Sta morendo Ma che Perché hanno creato Sta sfida Che potenziamento Di merda Ma è ancora attivo Si era caricato Da solo Hai la chiave Sì ma Contro la cosa Ce ne erano delle altre Ecco appunto Sta cosa qua Dello scatto in alto Senza Dargli nessun input Mi manda Nella confusione Più totale Per non dire Nel panico Spero almeno Che Che gli oggetti Qua Continu Comunque Continu Continuo sempre Come Bookworm Mi serviranno Altre chiavi Mi sa Oh Beh Scoreggia infinite Come oggetto Attivo Non è affatto male Visto che Dovrei avvelenare Tutti quanti C'è un negozio Ci sia la stanza oggetto Ok Speriamo ci siano Altre chiavi Comunque che questa volta Mi sa che me ne servivano Davvero tante Ok Qua ok Dunque qui Eh già È proprio Quello che volevo È un Backstab Minion Vendetta Di Montezuma Non è Non è Questo è buono Questo è buono Questo è buono Questo è buono A meno che non ci sia Un'altra sorpresina Oh Anche Anche tre chiavi Ottimo Però Saranno tutti quanti Oggetti attivi Quelli là No Quelli nella biblioteca Intendo Meritereste più fan Grazie mille Vuol dire molto Questo è buono Io proverai questo Solo perché c'è Piromane Ma Ho paura A prenderlo Tanto comunque Sarà sempre attivo No non è attivo More options Ma sarà more options Non lo so Io take Tu No Io take Tu Benvenuto Nella Auto community Cazzo Dovevo fare più in fretta Devo stare molto Devo 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 Stare sul pezzo Cazzo Mi riafragati Tutti Simultonialmente Non è giusto Però tutto Tutto può Scomparire Da un momento All'altro Credo di aver capito L'andazzo 49 centesimi Non li spendo Per quel Buco Buco Ok C'è un buco Esiste Un buco Patti col diamo Non penso Siano il Chi Chiodi Run Chiodi Run Buonasera Chi si collega naturalmente Purtroppo non so dove cazzo andare Perché c'ho l'amnesia C'è un buco nel muro Arturo Arturo C'è un buco nel muro Arturo Arturo E come lo tappo Eufemia Eufemia Chi c'è adesso? Chicken Alfredo Fettuccini Benvenuto Ah no era stanza lunga questa Chicken Alfredo Fettuccini Benvenuto nella Ota Community Questa è la definizione di folli Altro che vaz Ho come l'impressione che Vabbè parte Lui va 1,2,3 Forse ogni X lacrime Spawna una di queste mosche qua Almeno mi pare sia così Questa challenge è da rifare comunque Assolutamente Come si sblocca questa challenge Sai che non lo so in realtà Mi è capitato di sbloccarla semplicemente L'attivo fa danni Beh fa scorreggioni Quindi mi auguro faccia danni Sbloccando Tainted Eden Ah ok Beh si fa danni Ed è infinito soprattutto Sì come oggetto non è male Però è solo da vicinanza Benvenuto Mister Quack 06 Questo cos'è invece? Ah Oggetti Infiniti Oggetti infiniti Ok Direi che questo è meglio dell'altro Non Ma E come dovrei uscire? Ah no C'è lì Quindi Ho trovato il trinket più rotto Della storia dell'umanità Mi par di capire Arranco quell'oggetto Senza prendere altre cose E non sto usando cheat E questa è la cosa bella Tech Ah è un mister mi guardi Preferisco oggetti gratis Grazie Run rotta Run ultra rotta Ultra bro Ken Che bello Questa Non dico che è meglio Della run di prima Però è Più stimolante Cazzo Ultra rotta Sporca ultra rotta A questo punto posso anche usare questo Però non posso permettermi Vaffanculo te e tua sorella Affrontiamo il boss Per Perchè sono qua Perchè 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 Cos'è non posso andare Non posso continuare Mi par Parmi di aver capito Che Ogni volta che arrivo dal boss Mi teletrasporta via Magari Ah ecco Dicevo punto Magari Mi capita Mi capita Sta stanza E mi ha rimandato qui Toccando il tizio di prima Fammi tornare su Grazie Posso ancora tornarci eh Tecnicamente Posso ancora tornarci Ehi Fermo Fermo Prendo il tutto Questo non è quello di prima Vabbè tanto finché sporo tutto Tutto quanto all'infinito Dai rimandami nella Rimandami nella Nella stanza Di prima Questa cosa fa Un po' Un po' Di tutto Meglio questo Comunque Adoro questa sfida Anche io la adoro Mi sta Mi sta divertendo assai Spero davvero Di non aver perso La run Per colpa di Sta minchiata qua Purtroppo Dai Teletrasportami Nella Nella stanza Pound of flash Chiodi run Sì questa è assolutamente L'occhio di run Fermo C'è C'è di ne uno Mi sa che Dobbiamo resettare Ok Croce Non sto Facendo niente Rotta Adesso Ufficialmente Rotta Ho pagato tutto Sì è colpa mia Non posso neanche Mettere in pausa La voglio rifare Mi tocca Chiudere il gioco A posto Quelle mani Piene di dita Non conta Come partita Persa Però Sarebbe da fare A capodanno Umbriachi Sì sono d'accordo Però capodanno Non ci sono Visto che devo festeggiare Consideriamolo oggi Come il mio capodanno In un certo senso Vediamo che cazzo Mi capita adesso Mamma mia La rifaccio volentieri Minchia È già un rallentamento All'inizio Ok Telepate Sarà telepate Ma non mi sembra Che mi abbia dato Nessuna lacrima Viola Sempre prima del capodanno Cinese Oh Uff Oh 50 spettatori Guarda qua Guarda poi I casi della vita Appena il gioco Va a puttane Gli spettatori Aumentano Oh abbiamo toccato Comunque un Abbiamo raggiunto Una sorta di record Visto che non c'è mai Così tanta gente Simultaneamente Soprattutto di venerdì Ah Ah Bene Per ora Siamo ancora Più o meno Tranquilli Con Con l'inizio Non ci sono Glici Insormontabili Si vede la clip Vedo che Ne è stata fatta una Tane che magari Arriva a 100 spettatori Ma non lo faccio apposta Io E' il gioco Che lo fa per me E' strano che Più che altro Mi sembra Strano che il gioco Non abbia Mandato in crash Il gioco Insomma Si insomma Che il gioco Che la partita Non abbia mandato Il gioco in crash Ecco Riesco a spiegarmi Se voglio Dopo mille tentativi Ma lo faccio Scusate un attimo Dovevo bere Però prima Se non riesco A finirla oggi Sta sfida Dobbiamo assolutamente Rifarla Con Ubrizir Cioè Alcolici Non posso mostrarmi Mentre bevo alcol Questa è acqua Vi ricordo Altro che Essenza della vigilia Di Natale Questa è Essenza Del glitch Supremo A sto punto Controllerei anche Il negozio Non che mi aspetti Chissà che Perché è impossibile Che qualcosa Costi zero Però Eh infatti Immaginavo Si che puoi farlo No non posso farlo Non posso Mostrarmi mentre bevo L'ho detto È contro le regole Della community E non voglio rischiare Ok Siamo ancora tranquilli Eh Godiamoci questa tranquillità Perché tra un po' Andrà tutto a Ramengo Trovo l'oggetto Sbagliato E tutto quanto Tutto quanto si glitcha E dovrei arrivare Messo così Cioè Con i glitch Costanti Al blue baby Mi è venuto Un brivido Lungo Lungo il collo Siamo ancora Il boss Non è glitchato Il mondo Ha un po' Di rocce Diverse Ma il resto È tutto a posto Più o meno Hash Non blue baby Come hash Ma è impossibile Fare hash Cioè dovrei farlo Anche in fretta Stai dicendo No 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 Aspetta Questo è il blue baby Non è hash È impossibile La cacca sacra Con zampe di ragno Può succedere Oh no Quello è il blue baby Il blue baby Non hash Visto Non sono completamente Checcato Non ancora Cioè potrebbe succedere Se mi capita ancora Qualche flashatina Di Di Da Da teletrasporto Come poco fa Ok Non posso A tempo Dovrebbe aprirsi Il 100% Ma può succedere Nelle challenge Non mi sembra Che in afterbirth Ce ne fossero Ah già È un È un Bob's brain blue Misto con Il Il coso Tape worm Come cavolo si chiama Misto con Una faccia azzurra Non lo so Che cos'era Sto suono Ah bene Mi fa dei danni E Mi fa cadere Delle monete Oggetto di merda 667 662 Punti canali La bestia La vigia di Natale Non male Vuoi la bestia La vuoi come reward Sì Ti garantiscono Quel percorso Ma nessuno richiede Di fare rush O hash Rush No Controlliamo anche qua Stavolta Guardate Non so Non so più che Eh visto Non so più che aspettarmi Che Ah mi ha aumentato Di molto La Di molto Un po' tutte le statistiche Invoca anche Baby plum Chissà se Ehi aspetta un attimo Ma sono Ah no Ok Non dura Non dura per sempre Peccato Potresti metterla Eh Non saprei quali Comunque Ci Lavorerò su Perché i punti canali Non vengono sfruttati benissimo Diciamo In linea generale Fammi vedere un po' Se funziona ancora Allo stesso modo Ok E' un oggetto Glicciato Non Malvagissimo Plonti canale Nessuno le usa Praticamente E infatti C'è un tempo C'era tipo Mettere Il 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 commento In evidenza Ma Poi alla fine Come dicevo Nessun altro L'ha più usato Quindi Ci penseremo su Abbiamo altre priorità Al momento E' ancora troppo tranquilla Ma Manca il fattore Caos Dov'è Tonks Quando serve Vogliamo il Caos Divertiamoci Magari Caos Controllato Più o meno Se possibile Preferirei però Oggetti passivi Magari Non di quelli Che mi teletrasportano A random Soldi Grazie Tipo Spona il Gato E dovrei andare A prenderla Però Anami Anemico Non ho La più Pallida Idea Di cosa Sia Questo E' un Famiglio Cos'è Prende la Caccia Ah no Gli dà la Caccia Lui Stessa Bello Allora Minchia Che potente Però siamo Ancora I primi Piani Uverm Mi è venuto L'uverm Non mi importa E' grasso Quindi è bello E' crasso Il verme Crasso Bu E' crasso A fame Gli streame Che permettono Di commentare Solo agli abbonati Sì ma io non lo faccio Non sono così famoso Da potermi permettere Di avere una cosa simile Quanto meno Bloody puppy Vabbè intanto sta lì Sì Dai baby plum Tocca Mi ha Mi ha aumentato Ah no è vero La velocità Certo Queste lacrime sono Sue Quindi va bene Vediamo questo Cos'è HP up E Yuffi Yuffi Divento Yuffi Mi trasformo pian piano in Yuffi Niente patti col diavolo Come ho detto prima Ma non avevo Un effetto permanente Prima Adesso le locuste Apparentemente Stanza degli oggetti Biblioteche Qualunque cosa Qualunque cosa Possa contenere un oggetto Morte Ma questo dovrebbe funzionare Vediamo cos'è Una pillola L'effetto di cancer Non era tipo You feel empty O qualcosa di simile Senti Bloody puppy O come ti chiami Puoi fare il tuo lavoro Grazie mille Ehi Oh bomba troll Bomba troll d'oro Ancora peggio Si però In quanto riguarda Potenza E tears up E tutto il resto Faccio continuare a far schifo Manca una Gimicrand Ho il Vago presentimento Che la Gimicrand Non sia Ehi Ma che ti piglia Oh no Si a spawnare Una bomba troll Do Oh mamma Folle La ruota della fortuna Signora Longari Potete Potete avvicinarvi qua Non voglio sprecare una bomba Per niente Ok Questo la colpisce Proviamolo a sto punto Shot speed down Poteva essere qualcosa di buono Invece no Quanto meno adesso c'è questo Quindi adesso c'è la La glitchmik Più che altro Non la gimmick Che se mi colpiscono Spawno una bomba troll d'oro Questo Due bombe troll d'oro Questo mi pare un bel problema È decisamente un problema Ah no Non è una stanza Bombe troll Potevate spawnarvi vicino A questi qua Invece no Vediamo che miracolo Della tecnologia Che fit Joe bone Cos'è che fa Spawno una carta A tempo Apparentemente Ruota della fortuna Vediamo un po' Se funziona ancora Allo stesso modo Oh proprio carte Ok A tempo poi Magari potrei trovare L'holly card Anche se non sono Tainted lost Proviamo a usare A tenerci questa Oh anche le rune Hagalad Proviamo Favoriamo il caos Visto che con le carte Posso cambiare Il mio destino Ah e ho anche Questo effetto Carino La via degli amanti Runa Petro Non credo Mi sarà molto D'aiuto Petro 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 Più mi colpiscono Più bombe troll Rimangono Nelle stanze Poi Eh però Vabbè Questo immagino funziona Almeno le carte Le pillole funzionano Soprattutto quando Fanno schifo Vediamo un po' Anche Ah no aspetta L'oierofante Mi piace Mi piace Sessanta Questo sette invece Che cos'è Atame Kal Atame Kal Atami L'imperatrice Va bene A meno posso affrontare Qualcuno In maniera Più o meno Decente Aio E' tornata una Adesso Perché prima erano sei Mi mancano le bombe Andiamo a affrontare Il boss Ehi Ridammi la carta La ruota Della fortuna Facciamo esplodere Anche questo Blank rune Proviamola Oh bene Buono 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 Peccato che la mia potenza Lascia ancora Buono Di gerare Il mago Che aumenta anche il mio range Lo faceva questo effetto Non me lo ricordo Vedi spread gli oggetti che raccogli Sono Ho preso Cinque teste di diavolo Sono molto confuso gente Questo cos'è Era wall Chaos card Meglio che me la tenga Ben stretta Ah no è vero Tenermela ben stretta Un corno Facciamo che la usiamo subito Vediamo un po' Questo invece Euk Boom 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 E' un altro di quegli oggetti infiniti Chissà che non avvelena neanche questo Si E' stato un po' Lo spreco questo Ah No 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 Ah però In compenso posso sparare ogni tanto una fiamma Che non è la Può farmi male No Che non è Dicevo la Uh petro E' vero posso cambiarlo Che dicevo Che può Che non è quella che blocca i proiettili Non è quella del peperoncino rosso Oddio mio Mezza caccola Mezzo osso E' un po' Vice out of the E' sempre Non cambia nulla Sì non cambia assolutamente nulla Dove dove Ah era quello lì il piccaglio di prima No vabbè Mi sa che ho dicendo un po' di cose Oh vabbè Questo cos'era Sto facendo schifo Con le statistiche Vice out of the Mi terrò a questo qua delle scoregge Infinite Era buona Spornavi tutte Chaos card Eh Ma non l'ha fatto solo una volta Vediamo Oh finalmente Ah no aspetta Non è la biblioteca Mi auguro che questi funzionino In maniera normale Posh Posh Entriamo anche in queste Perché non sono soddisfatto Della mancanza di caos Ah mi mancano le bombe Naturalmente Il trinchetta a sinistra A sinistra qual'era scusa Non me lo ricordo più Perché adesso l'attacco ha aumentato Cosa che mi ha aumentato l'attacco Non ho visto Quando è avvenuto il cambio E' anche un peccato Che in queste sfide Non sia Mentre la fortuna Si è diminuita qualcosa Continuo a essere confuso Qual'era questo? Non mi sembra Stia funzionando Ah no Questo qua Pay to win Beh Potrebbe essere buono In effetti Pipistrelli Vediamo se riesco a Ah no Infatti è solo quello che spinge Non è Non è bello purtroppo Questo è un oggetto Piuttosto brutto Bloody puppy Fai il tuo lavoro Grazie Ha bisogno di potenza Di fuoco Qualunque potenza Di fuoco Quello non mi serve Ancora blank rune Non mi serve Salve Chi si collega Ora naturalmente Buona Buona vigia Di natale Insomma Vieni qua Che ho una bella sorpresina Per te Un bel bocconcino Orco giuda Ok Meno male che c'è quella Che mi salva In un modo Traviato Però Però c'è Tears Lost broken Aumenta Aumenta Le mie statistiche Sempre con una scoreggia Quanto meno si ricarica Da solo Accidenti Adesso non aumenta più niente Invece Anche questo non è male No Non ho abbastanza soldi Non avrà funzionato Trinket Wtf Evidentemente Forse devo entrare Nel piano successivo No Non fa Non fa Non fa nulla Sono altamente deluso La run di prima Era molto più interessante Oddio Velene Basta Troppo semplice Dai Dov'è il caos Datemi sto caos Dov'è il caos Accidenti Potevo andarci Vediamo il caos La ricerca sul caos Vediamo magari No Sono pieno di cuori rossi Sai come si batte sta challenge Ammazzando il blue baby A giudicare dall'obiettivo che c'è lì Comunque devo avere un qualche tipo di randomizer Perché a ogni instance Vi cambia le statistiche Un qualche tipo Diversi tipi Cercando un attivo che spona la chest Fina Perché c'è un attivo che può fare una cosa simile No no aspetta Blank run soltanto quando compare L'oggetto attivo Passivo Ok insomma Oppure usarlo anche adesso Che me ne frega Tanto probabilmente mi capitera Sempre una merda Ehi Lascialo subito Non voglio avere altri Altri moscerini tra i piedi Ah si disavvelena Non me l'aspettavo Riappa riappara Potrei farmi Farmi danneggiare di proposito Per far spawnare delle bombe d'oro Ma è meglio di no Lilium 89 Benvenuto Benvenuta Nell'ota community Tanti attivi Perché ogni item Un insieme di tre item casuali Doveva ricapitarmi quella di prima Con il Che spawnava tutti gli oggetti Che però ogni tanto Mi teletrasportava E poi mi ha mandato in crash Tutto quattro Vabbè Terzo Secondo No non ti Non c'è bisogno di preoccuparsi Se sei già vaccinato Change you Milva Milva forse E continua Non ad essere cambiata la sverza La mia potenza Lascia volta a desiderare Coso Caro lei Può smetterla di attaccarmi Prima che le spacchi la testa Personalmente Con le mie zampe Ah Uh Ah ecco Adesso sei tornato normale Bloody puppy Me lo devo ricordare Devo ricordarmi anche che Devo prenderlo Non devo associarlo a questa run Tao 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 a tutti Ah Uh Siamo 20 e 17 Abbiamo ancora Due ore e mezza circa Prima di finire questa live Necropoli 1 Già Verrei là molto volentieri Ma sono sprovvisto di bombe Ahimè Ne basterebbero almeno due Per avere quelle infinite Caosizzatemi Caosizzatemi E daie Necropoli 1 Potrei affrontare il boss Volendo Ma non voglio Voglio prima Voglio prima Affrontare il caos Perché non si è spawnata La bomba d'oro Stavolta Spiacevole Isacco contro Un gran bastardo E mi ha droppato Un Spear of Che cosa potrà mai fare Questo Aspetto una stanza Piena di nemici Prima di provarla Cos'è Ad ogni moneta Che prendo Mi droppa Un Un uomo di ragno Mi pare di Vedere Via 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 Sì Ok Interessante Molto interessante Qua la bomba Non la uso però Sì Lo scoreggiofono Di poco fa Non era al massimo Tra gli oggetti Random Che Potete Potete trovare Insomma No Ah Ma non avevo più vita Prima Eh vabbè Mi devono aver copito 3000 volte Almeno Quindi ha senso Dai Solo la bomba d'oro Le ho sprecate tutte Ma almeno ce le ho infinite Per questo piano E ho qualche spiccioletto Extra I teschi Possono droppare Rove Random Non credo Fa molto Legend of Zelda Sì ma Cosa Sto gioco Sì Diciamo che la base Era quella Ci sono anche degli oggetti Legati a The Legend of Zelda Tra l'altro Ah già Non l'ho provo Oh Li smaterializza Immagino di non poter Non poter usare L'infinito Vorrei provarlo Contro un boss Magari una roba Che infligge 999999 Che probabilmente Non basterebbe Neanche ad ammazzare Hush Però Almeno ho le locuste Cos'è che mi aumenta le cose Non lo so Questo sarà sicuramente Amnesia Con la fortuna che ho HP down Mi ha aumentato Soltanto la vita Ah no Invece mi ha diminuito Anche la vita Cioè Mi ha aumentato La fortuna Ma mi ha diminuito La vita Ma mi ha dato Comunque un cuore d'anima Mi sembra Delirium 10k A 6666 6666 Zzzzzzzzzzzzz Con le sfide Hyrule Hyrule E Isaac Awakening Hyrule Me lo ricordo Isaac's Isaac's Awakening Mi sembra di no Deve visto Circa 15.000 Cristopedali Cioè accidenti Qua c'è qualcosa Di interessante Molto interessante Ah Ah È diventato ostile Ovviamente Un oggetto Che mi dà bomba infinita Anche quello Non mi dispiacerebbe Vediamo un po' Is Zfor Ok Che cosa È quello Cioè Muore subito Tra l'altro Non so quanto Ne vale la pena Forse 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 è il caso Di Ricosare Che dite 8W Cos'è sto 8W È un Non ne ho idea Non ha fatto Non ha avuto Assolutamente Nessun effetto Nessun effetto Ho rirollato Sì però Mi sono ricordato Soltanto alla fine Che Che non si può più Rirollare con le bombe All'infinito Non fa niente C'è ancora un piano Di necropoli Infine Conti Uno per volta Please Stanza delle sfide Non posso farla Comunque Non è valsa No Non è valsa La pena È solo per avere Quel Ticchini Di carica in più Così vedo se funziona Anche contro i boss L'annullamento Totale Ah però io posso usare Anche le mie bombe Sono troppi 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 Ah Drunk Quest 11 È finito Da more ormai Grazie al cielo Non era un gioco Adatto per me E le live Questo gioco D'altro canto Con questa challenge Nello specifico Assolutamente Sì invece Due mega fetti Non so quanto mi piace Vediamo se si annulla Non c'è altro da dire Anche questo Non ha un grande effetto La mancanza di rottura In questo gioco Mi sta deludendo Assai Ok Ricevo ancora danni da cosa Quindi non ho stampi O qualche altro Oggetto Simile insomma Il tacchino in testa Dell'altro item Fa sinergia Ha fatto sinergia In qualche modo Non pure semplicemente Rimasto l'effetto E basta Che ne so Inbow bone spurs Che effetto schifoso Vediamo un po' Cos'è scatola O qualcos'altro Ox staff E non ha avuto effetto Spero almeno che al posto della chiave Mi daranno qualche altro oggetto utile Arco giù D'ho sbagliato Ehi no Questa è la chiave normale Basta A questo punto Prendo anche l'altra Più probabilità Di dipatti con gli angeli Anche se ho solo una stanza Ora che ci penso Quindi non Aspetta Necropoli 1 Quanti piedi ho fatto Perché questo non è randomizzato Comunque L'essenziale è arrivare al blue baby In fin dei conti Vediamo che succede Cambiamo anche polaroid Death Note Chiavi eccetera Ma poi l'hanno nerfato Qualcosa di simile O l'hanno corretto Stanza delle casse Delle possibili casse Oh ancora bomba Bomba infinita Mi va benissimo quella Lo hierofante Va ultra bene anche questa Direi che la bomba Però mi è più utile Contestualmente parlando Giù Funzionerà Sì funziona Ehi aspetta un attimo Quella era una Quella era una stanza rossa Se c'è la stanza rossa Vuol dire che Forse c'è una sorta di sinergia Con Cioè sinergia Ha anche l'effetto Della crystal key Cioè del trinket crystal key C'è anche la stanza ultra segreta Guarda poi i casi della vita Come funziona pure C'è sempre un oggetto garantito Mi pare Se no ti rovinevi le run Un po' Ah c'è un oggetto Molto utile vedo Che è Una forbice mista Qualcos'altro Circolo di protec Protec Ho spawnato Depressione E ha cancellato l'altro oggetto Perché l'altro oggetto attivo Non aveva un vero utilizzo Però Vediamo Spero che si aprano più spesso Si aprano più spesso Le Le stanze rosse Voglio riprovare Magari Oh magari è uno spawner Continuo di Tipo monster manual infinito Potrei creare con joint Volendo Se trovassi altre cariche Se è così che funziona Si intende Vediamo se durerà Fino alla fine di questa Ora che ci penso Questa non assomiglia molto Alla necropoli Già Ha un aspetto Leggermente diverso Aiza contro grid Ma siamo sempre In una stanza rossa In questo caso Accidenti Non l'ho guardato Stavolta Colpa mia Colpa mia No Non ha spawnato Nient'altro Forse era solo Legato a quell'oggetto Lì e basta L'hai finito Interrotto la run Tecnicamente L'ho finito Prima del vero finale Ho concluso Solo la storia base Senza fare L'end game Eccetera Andava fatto Comunque Non c'era Altra soluzione Cioè ci sarei stato Altre Trenta Trenta live Per completarla Altrimenti Vediamo un po' Mi stanno Risocchiando E io sono ancora Potente Pochissimo Insomma Non 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 ha nessun effetto Sto coso Forse deve essere Una stanza Con dei nemici O forse Altri effetti E basta Semplicemente Fatemi pensare Ho usato Depressione Mentre ero Nella stanza Di là Cioè Ho sponato Depressione Sì Ho ancora Tanto da fare La storia Oh Stanza segreta Grazie Orco Giuda Orco Giuda Uno per volta Per favore Super grid Weee Sciambola Non sono felice Questo non mi rende felice Sette sigilli Ho sponato Una lacrima Che è rimasta sul posto E poi è caduta Perfetto Torniamo a questo qui Vediamo un po' No ok Spono depressione E mi sembra che Trasformi gli altri oggetti In altri oggetti Ancora L'ho fatta Trovando una buona sinergia Evitando come la peste Di prendere altri oggetti E io non sto trovando Degli oggetti Proprio buonissimi Quindi spono depressione E ha qualche altro Affetto Ok Sappiamo Sappiamo a meno questo Buono Buono Posso ricaricare Questa stanza Volendo Miche che culo Però Non devo andare Ad affrontare La mamma Devo ancora trovare La stanza Dell'oggetto Tra l'altro Eccola qua Guarda che Aytan fa vedere Se Aytan mai Fa vedere Sì Insomma Fa vedere Relativamente Fatemi entrare qua Grazie Otto finger Scoreggia blu Bene Cioè male Non è quello che volevo Magic scab Scorreggio E trasformo gli oggetti In bombe Presumo almeno Che l'effetto Sia quello Ai folle Allora posso affrontare La madre Presumo che Presumo che Comunque L'oggetto Sia sempre La polaroid Sì la polaroid Stanza rossa Bene Allora è proprio Un oggetto passivo Quello che mi fa Sta cosa qua 54 Lo prendo Vediamo cos'è Old bring rage Tutto è perfettamente Chiaro È passivo Quindi chissà che fa Fare blue baby E che serve Uscire Uscire Dove Quando Perché E soprattutto Dove Vediamo un po' Non penso di poter Trovare altri Soldi Qui in giro Oh beh Si torna nella stanza Del dado Dopo aver usato Il folle Direi E la faccio In ogni caso Peccato Per il mancato Effetto Interessante Diciamo Ricordiamoci Le bombe Le bionbe Le bionbe Le bionbe Ok Com'è successo Quello Invece Forse ho distrutto Una tented rock Che ha quell'effetto Lì adesso D'ora in poi Funzionerà così 51 spettatori Non stiamo Forse Ogni X bombe Può Comparire Vediamo un po' No Mi sembra che Non funzioni così Va bene Dunque Prendo questo Torno Torni indietro E rifacciamo il piano Perché Possiamo Una gigantesca Sì una brutta gigantesca Orribile Quello che vorrei Avervi fronte a me Una gigantesca Con grandi tette Quella probabilmente Ce l'ha Ma sono brutte Orribili vecchie Dai Vediamo un po' Necropoli Sempre necropoli E un'altra stanza Degli oggetti Normali Non ho più bombe infinite Però ricordiamocelo Di certi composizioni Che combino gli effetti Inclusi trinket Passivi e attivi Sì Penso di aver trovato Questa poi Non è ovviamente La stanza Che dice Che dice La cosa qua Insomma Non è Non è la necropoli Ma è Platealmente Un Che si chiama Le miniere Ecco Dovelo spostare Grazie Sì Tipo Se uccido Gli innocenti Si trasformano In limonata La butto lì E ovviamente Arco Giuda Non l'avevo vista Sto facendo schifo Con la vita Anche Naturalmente Ho aspettato Proprio per vedere Che succedeva Sì ma Vorrei prendere la carta Me lo concedete Ancora il folle Limonata A.k.a. Piscio Sì ma diciamo limonata Perché siamo bravi Bambini Causa anche Scoreggia Ai nemici Questo oggetto Attivo Mi pare Zodiac The Madonna Sacra Oh mamma mia Ok Ho mandato un po' Tutto a puttane Probabilmente Ma Non è quello Che mi aspettavo Non è decisamente Quello che mi aspettavo Quindi invoco Una bomba troll Ma anche un missile Super mega gigante Ierofante Ok forse è meglio Sto crepando Me ne sono accorto Grazie per l'interessamento Spero che la Giornata ti sorrida Mi aspettavo di tutto Tranne il missile Mega gigante Quello non Non mi è mai capitato Non pensavo neanche Esistesse Faccio un attente Drocco Ancora questo Benissimo La nuke Di Mother Warfare 2 Immagino fosse quello Il gioco Per dire Tipo crea pozze Ogni tanto Quando ammazzo nemici Punto di domanda Sotto di me però Non sotto ai nemici Forse è un'arma per il boss Non lo so Potrebbe essere Potrebbe essere Pericoloso Quanti siamo Ancora 52 Pensavo fossimo Di mezzati All'improvviso Era quello che temevo Almeno Ovviamente Si è arrabbiato Vai a sbattere Contro il No Non ci vai a sbattere Troppo facile Un'arma contro il boss E me stesso È un'arma contro tutti Dai torna Bello e coccoloso Come prima Carino e coccoloso Carino e coccoloso Quanto meno Ho Ho almeno L'effetto Delle Bugartiers Che mi piace tanto Dunque La stanza Che stanza ho trovato Qua Lo faccio Ma tanto poi so che Spona Mille bombe Mille bombe Blu Oh Stanza rossa Eh Vediamo un po' Magari Magari Troppo Un oggetto Chissà Questo non è un oggetto Ma va bene Lo stesso Stanza segreta Attaccata A stanza rossa Che bella Sta cosa Delle stanze rosse 60 Accidenti Lo prenderei Lo prenderei Ma mi serve Più denaro Molto Più denaro Come cavolo Dovrei fare Ad andar lì Ah Ho capito Minchia Devo fare in fretta Allora Ci sarebbe La curse Room Rischierei Grosso Is this Tent Jacob Is What Perché Ah già M'ero scordato Di questo Vediamo Ma si Che diavolo È Odd Rainbow Che cosa Cosa ha appena fatto Mi ha aperto una Una porta Da qualche parte E mi ha invocato Un Piccolo Buco nero Vediamo questo Ah è vero Posso usare il folle Per uscire Tra l'altro Dunque Io direi di Tenerci la La nuke Appunto La 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 Dunque il folle Lo devo comunque usare Dead ski Credo Non penso Mi serva Visto che Ho abbastanza Abbastanza Cose Lì Abbastanza Chiavi Ah il mini Bucco nero Però sparisce Ok Torniamo Dalla madre Che disastro Come Oh no Le bombe Sono tratte Un'altra Polaroid Sì ma Spostatevi Non posso affrontarvi Tutti in una volta Sola Scappiamo Che si mette male Utero Sono tutte Stanze rosse Ah no Però Non l'aspetto Utero Uno Ok Niente Stanza degli oggetti Purtroppo Gran peccato Eh Stanza rossa Quello invece va bene Visto che La stanza rossa Favorisce Ulteriormente Il caos Come ti Oh Ancora La stanza Ultra segreta Anche se moriamo Non mi interessa Mi sto divertendo Come un cretino Con questa sfida Qua Mezzo Libra Mezzo Colorato Uperfan All stats Up Ah Perfetto Ok Non ce la faccio Non ce la faccio Gente Pure l'oggetto Che può mandarmi In crash In gioco Gente Non ce la faccio Era tipo L'ultima cosa Che mi aspettavo Voglio rifarlo Mi sto divertendo Non posso essere Arrabbiato Talmente Random Perché mi ammazzo Mi ammazzo Mi ammazzo a ridere Dovevo bere Dovevo bere Durante questa sfida Aspettate un attimo Riprendo Un attimo solo Che riprendo Il controllo Delle mie Delle mie Facoltà mentali No L'oggetto Che mi Crash Tutto il mondo Non 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 L'avrei mai detto Mi aspettavo Tipo Molteplici effetti Che potevano Crashare il gioco Ma questo no Questo proprio no Oh santo Sceo Vancella Uno Ok Non inizio Già con un oggetto Perché non sono Un personaggio Speciale Passato il buon umore Andiamo avanti Primo oggetto Voglio qualcosa Di ultra broken Subito Ma posso resettare Anche Nelle challenge Orcolino Ho cliccato Quello per sbaglio Cioè no Volevo vedere Se si resettava E si si resetta Mi sto perdendo Perle vedo Si Pirle Soprattutto PhD Mezzo Lacrofagia Credo E mezzo colorato Box L'ennesima cosa Che non serve Alla sverza Vedo Cioè molto stimolante Comprerei molto volentieri Questi oggetti Ma costano troppo Devo ritrovare Un paio di Dimes Qua sicuramente C'è una stanza segreta Quindi vieni qua Ragnetto Vieni qua Vieni qua Vieni qua Da papà Otakumen Vieni qua Brutto bastardo Qui Più in qua Più in qua Bravo Mi sa che non c'era La stanza segreta Allora Oh Ah Adesso voglio vedere Che succede Se uso l'oggetto Con i nemici Perché Oh può essere tutto Può fare di tutto Oh Oh Mi sa se Compiono davvero Come PhD Tra l'altro Ragna La potenza La potenza La potenza è uguale Vedo Però il Tears up È rimasto Il Tears up Dell'oggetto È rimasto Chissà 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 Punto Non è inutile che mi chieda Chissà che fa Tanto è tutto Un'incognita Ciao Ace Buona Buona vigilia Ok Adesso magari Durante la battaglia Col boss Lo provo subito Widow Non ho aumentato Nient'altro Allora È l'ennesima Scoreggia E basta Peccato Probabilmente Una scoreggia E un oggetto passivo Random Aio Anche a me e a famiglia La famiglia Facciamo le mani Alla famiglia Che è tanto importante Andiamo un po' Contract from C'è stato un Suono di sciacquone Ok Presumo che abbia avuto L'effetto dello sciacquone Solo per una stanza Ace mi sta ostando Grazie mille Eternal Heart L'Eternal Heart È andato un po' A quel paese Il contratto di un cesso Contract from below Letteralmente From below Contratto dalla fossa biologica Praticamente Mi piace il caos Quanto mi diverte il caos Soldi Ho bisogno di soldi Ragazzi Nulla di personale Ma dovrò sacrificare La vostra vita Monete Yes 42 Palla di Cerotti Misto Anche a pasogni Forse Tfruiti Ma spona un nemico Ma sei una Da testa di cazzo Non fa un culo Tagli gli oggetti Che sponono i nemici Ma siamo per caso Durante la risalita Non mi ricordavo La voce della madre Le tasse che Isaac Deve pagare Per avere foglie Sotto casa È lo scotto Da pagare Più profondo Del solito Tra l'altro 97 Troppo Magari era random Anche questo Ci ho sperato Perché tutto è glicciato Perché questa sfida È così Tutto è glicciato E tutti gli oggetti Sono glicciati A loro volta Insomma Per farla breve Ah ma non è un burrone Arco Giuda Mica è come Sora Eh ma Sora Ha abbandonato i suoi neuroni Da qualche parte Cuore Eh cuore ed anima Va bene Alte citanze Sì in realtà Ce ne sono altre Bene Non basta ancora Però per quell'oggetto là Distanziamento sociale Allora sì Giusto un altro Per caricare Ancora un po' L'oggetto Il misteriosissimo Oggetto attivo Misto PhD Misto altra roba Ne ha mai avuti? Beh nell'uno e nel due Un po' di neuroni Le aveva Poi con Dream Drop Distance È iniziato A abbandonare Tutta la sua Scarsa intelligenta Scarna intelligenta Anzi Accidenti Adesso 20 e 40 Bene Denaro Vorrei tanto però Non trovare più oggetti Che si combinano Con la scoreggia Non è più divertente Come all'inizio Almeno mi dà un cuore eterno Dio Mede Vabbè che gli impatti Col diavolo Non sanno da far Però Mezzo corno di unicorno Misto Child Let him Damage up Più HP Forse Ed era passivo Quindi Chissà Quindi chissà Non possiamo saperlo Flooded Caves Si è uguale a Flooded Caves Esattamente Come lo ricordo Buon vecchio Isaac Senza problemi Comentiamo i cuori eterni Dai Fatti vedere Teschietto Devo anche finire Io di andare avanti Isaac sta facendo Il moonwalk Comunque Qualcuno Qualcuno metta Qualcuno metta La musica di Cosoli Beat it Mi sembra No Billie Jean Con Isaac Mentre Mentre danza Ci sta Ci sta Ci sta Questo fa schifo Mi sa che anche I trinket Sono sempre gli stessi E non cambiano In realtà Sta volando A me non sembra Che voli Cioè L'animazione Non è quella Quanto vero Perché non ci butti Su qualche modo estetica Per la sessantesima volta Sto giocando Su Console Non sto giocando Da pc Da brinstone Ogni stanza Ah beh Sì C'è Cos'è Sulfur Mi sembra Mi parmi di aver capito Che Qual è uno degli effetti Del Insomma Dell'oggetto Trovato prima Creo Botole A random Non so Quanto possa essere Buona Questa cosa Tipo Ogni X lacrime Crea un 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 crawlspace Te lo dico apposta Questa è cattiveria Allora Quindi però Non posso creare Un crawlspace O una botola Mi auguro Rremo 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 Presumo Presumo che fosse anche questo Dead ski O qualcosa di simile Non è cambiato niente Posso anche tenermi questo qua Per ora Sì Come cavolo faccio A finire sta cosa qua Senza finire In una delle mie stesse botole Però Leremita Andiamoci A sto punto 11 Che cos'è Rns Rns And repeat Un altro Anche qui Ah non basta Ora basta Tuck fly Tuck fly Oh finalmente qualcosa Che aumenta l'attacco E che non è fly Soprattutto Non potevo creare Dei vortici Sotto i nemici No Dovevo creare Una botola Sotto di me Adesso Aveva anche L'effetto Cos'è Fart Ah Può davvero volare Ok Devo ricredermi Allora Tentare in posto Vorrei essere Essere Domani Devo sfogarmi Ci sta Ci sta Immagino Un giorno libero domani Beato te Io invece domani C'ho i parenti E dopo domani C'ho i parenti Della mia Nel modo di volare Sì Moonwalk fly Michael Jackson Sarebbe davvero fiero Ah se mi colpiscono Faccio una scurengia Ultra mega gigante Questo che cos'è Da quando è che ho ste lacrime Ri randomizza i miei oggetti Forse Qual era l'oggetto che randomizzava gli oggetti Qual era l'oggetto Attivo Passivo 55 spettatori Record Assoluto Che randomizzava gli oggetti Sono diventato tipo Tainted Hidden Mi par di capire Sì ma solo per una stanza Ok come l'ho detto Non devo creare Urco giuda Non devo creare il Gorgo 01 Benvenuto Non devo creare il Ecco sì Il crawl space Sotto di me Quando sono davanti alla porta E succede quando Ammazzi i nemici Tra l'altro Sì Sta succedendo Sempre più di frequente Però se non mi muovo Il vantaggio È che posso entrare Nei crawl space Con le scale Mi piace la tua voce Grazie mille Ah ma è lo stesso di prima Uffa Scoiattolo Benvenuto nella Otta community Ci sta Sì ci sta 19 Cosa vuol dire Quei 19 Vabbè Quindi ho un crawl space Per ogni piano Che palle Mi aspettavo qualcosa di diverso Otteniamo nuovi cuori Che qua ci servono Sti crawl space Sti crawl space Ah no Devo trovare ancora la stanza degli oggetti È vero Guardate 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 Che disastro Mimic Mimic Sì ma Ok Peccato Aveva del potenziale Sto oggetto Tanto almeno Avrò sempre un Un crawl space Garantito A ogni piano Allora Allora Questo Ehi Oh Per Per Cos'è la mia vicinanza Fa esplodere le cose Avete visto O è ogni volta che prendo le monete Perché Perché si era gonfiato Questo coso Di TNT Rosso Abbiamo creato un pippo Che Inchiappetta Xigma Mentre Sai da una Schicker What the fuck What the fudge Oh no Ecco Crawl space Mentre Che disastro Mentre Mentre Sono in spazi Strettissimi Potrebbe essere Un po' Un problema E' andata bene Vediamo Cosa sarà mai Questo miracolo Della tecnologia E' un E' un Un reusable fly E che cosa fa? Non smerzi niente Benissimo E' fantastico Che faccia pure No Meglio tenermi questo Per il momento Almeno Un ultimo live Di sabaco In the master Remind Capirai Non sono uno Di quelli che Segue sabaco Mi si piace Non lo odio Ma come ho già detto Migliaia di volte Non è il mio Tipo di Non sono il suo Target Non ha tutto Tipo piacere Tutto Cosa stavo cercando Ah si Questo Almeno da avere Un cuore in più Io ho tutti i cuori Mi ripeto spesso Lurca un po' Ma ti tengo aperto Va benissimo Anche i lurker Sono Sono i benvenuti Metto una roba Da guardare Che due E dici secondi Oh se qualcuno Mi passa Al clip Magari posso Darci un'occhiata Poi Comunque Per tutti Quanti voi 55 Se digitate Punto esclamativo Discord Potete unirvi Al server Discord Del sottoscritto Così si può Rimanere In contatto Visto che questa È la mia Ultima live Dell'anno Poi ricomincerò Dal 3 gennaio Poi se volete C'è Instagram Facebook Eccetera È tutto nella descrizione Del canale Se volete Mi pubblicizzo Credo sia Corretto Visto che non ho mai avuto 55 spettatori qua Sapete com'è Oh the frail The frail Più un fantasmino Bastardino Sparisci Grazie Stranzettino Io accordi Col diavolettino 60 Ok Ok ma ho ragione Allora Visto che io ne vedo 55 Ma si aggiunga dopo Tu farei anche Gli accordi Col diavolo Qualunque cosa Pur di togliermi Da questo impiccio Sono bot Ma non lo so Non è detto Ah mi costa soldi Ok allora Allora non posso Prenderli Porco cazzo Uno vale l'altro Guarda anche in quell'altro Guarda E siamo solo a metà Che colore ha sta stanza È un mischione Ricordiamoci che posso volare Posso scivolare Quindi il diavolo Devo aver trovato Un qualche tipo di oggetto Passivo Che mi fa Che mi fa Veri Nei patti col diavolo Offerte da negozio Minchia ridò ancora per prima È più forte di me Evito un danno Tanto gli accordi Sono quello che è Hai trovato Sound of flesh Il sound Aspetta Pound of flesh Non era un oggetto Di afterbirth Giusto no Perché proprio Non me lo ricordo Questo Insta Sempre io sono Takume Io sono Takume No official Per l'esattezza Il link comunque È nel È nel Il link comunque È nella descrizione Del canale Ribadisco Assieme a tutti gli altri Link utili Adesso siamo di nuovo 50 Me li aspettavo Oh no Platinato Isaac Alla Ha voglia È come se l'avessi Platinato tre volte Praticamente Visto che ho Che l'ho completato Al tre milioni per cento O quel che è Insomma Cioè È come se avessi finito Afterbirth Di afterbirth plus Al cento per cento Per tre volte Non di fila Però tre volte sì Viaggire Poco importa Fatti ammazzare morto Grazie Credo sia un tractor beam Misto a Brother Bobby O O quel O quel famiglio Che spawn a cuori Sì tutto ciò è interessante Ma cosa cambia Lo proverò In una stanza Con i nemici Non si può mai sapere Questo lo prenderei Volentieri In realtà Ma mi servono Ancora Spiccioletti Dono un soldo Takumen O valle abbondante O valle abbondante Ah Infliggo danni Deve essere tipo La cannuccia Però infinita Ok 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 Questo oggetto Non è poi così male Sono do Se non sbaglio La cannuccia Fa scaling Con le mie lacrime Giusto Però devo Devo ancora Mettere il mio attacco Questa 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 cosa Non è male Niente Crosspace Con scala Piaciuto The Witcher In realtà Non molto Non so Non mi trasmette Un senso Di fedeltà Al prodotto E poi Anche Enrico Non mi sembra Proprio Il più adatto In Ah Funziona Se uso questo Non mi sembra Proprio il più adatto Come Geralt Non è un cattivo attore Solo che per me Non è adatto Tutto qua Come ne avrei donato Un soldo Non devo andare giù Per di lì Quindi basta Che infligga danni E che sia sulla terra E datemi Il crosspace Normale Please Non è uno garantito Almeno Viaggine Che avresti usato Eh Onestamente Non lo so Ma non Cavill Quanto meno Lui conosce 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 Un sacco di cose Su The Witcher Quindi almeno A livello di Tecnicismi Poteva aiutare Ah Si è trasformato In una cacca bomba Niente Croll Sto gioco Mi da delle illusioni Almeno Sta sfida Mi da delle illusioni Continue Dai Fammi almeno Infliggere un po' Di più 17 No Temo di non potermi Permettere nulla Qua Quanto era carico Questo Due Non ci sono stanze segrete Posso provare A trovarne una Al massimo Ma non c'è nulla di garantito Qua Non credo Ci provo Ma non credo Invece c'era Ci sono Infliggo danni Mentre sono nella stanza Com'è che funziona Mi mancano due soldi Solo un soldino No Solo due soldini Per 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 comprarmi Quell'oggetto Che c'è nel negozio Mi sembra Proviamo ancora Un paio di zone No Dove sta La cosa Del boss No Non può essere Di qua Provo qui Ma la vedo Grigia Che culo Questo è Ecco lo sapevo E' maldito Niente carica Però i soldi Ve li ha dati Va bene Commissi in poster Come trinket Per cosa Per essere Per essere Chi scusa Ah Il lost normale Sì sì Come hanno detto loro Però quel trinket Va prima sbloccato Come si sblocca Non me lo ricordo Basta che vai Nell' Nell'Isaac Cheat Cheat Per trovare Per trovare Insomma Il modo di sbloccare Tutti gli oggetti That's it Quindi V uguale H V uguale H Lo sanno tutti È sulla bocca di tutti Vediamo un po' Che oggetti ho Sempre gli stessi oggetti Bene Almeno lì Questo che è 52 È un po' troppo Per le mie tasche Mi sa che Per il momento Prenderò questo Però Ho detto Però 16 volte Vabbè Sembra il metodo originale Era un parto Solo per arrivarci Sì ho letto Com'era il metodo originale Non Era prima o dopo Afterbirth Non mi ricordo Perché forse Credo di averlo fatto Una volta Ma non ne sono sicuro Vabbè Affrontiamo il boss E vediamo Wow Sarà dove Sarà un cazzillo Per volta Che gli infliggo Ma almeno È un cazzillo mio Cioè Button mashing Il gioco Praticamente Purtroppo Per ridurre Non è molto facile Da button masciare Ancora Cos'è Pokeball Misto Vendetta di Montezuma Ancora Stai fottuto E scoregge Mi pare di avere Anche effetto Di sol Ah cazzo Che faccio Rischio con questo No Preferisco Quest'altro Almeno Posso colpire Tutti quanti Nella stanza Quanto sia 48 spettatori Siamo un po' calati Ma Vabbè Me l'aspettavo Non rischiare Secondo me No infatti Sono d'accordo 21 e 3 Ho ancora Aspettate un attimo Non ne ho Che nessun messaggio Ho ancora Un'ora e mezza Gente Vediamoci che Posso volare Posso volare E batto Meshare Ho appena Lanciato una bomba Come stesso La batteria Si sta scaricando Male La roccia Spammarlo Vero Poi vediamo Se mi capita Una stanza Con le mosche Dovrei poter Creare Dei crawl space A go go In teoria Dov'è che siamo Qua Necropoli Già È proprio La necropoli Questa È uguale Identica Niente Craw space Con le scale Datemene uno Con le scale Please Niente scale Il mondo È fatto Di scale C'è chi scende C'è chi Tira via Il pavimento Questo A sto punto No 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 Tu mi stai lontano Invece Tu vai Il brimstotano Oh Santo scemo Oh almeno Ce n'è uno Stavolta Vediamo un po' Cosa Ad offrire Ha un Server rotto Come se servisse A sto punto E Il Più sacchi Se non sbaglio Q Interessante E anche un cuore nero Doppiamente interessante Quello lo prenderei volentieri Ma È un po' fuori portata Voglio provarlo Anche questo In una stanza Con più nemici Solo provarlo Solo provarlo Nulla più Grazie per la bomba troll Ne avevo proprio bisogno Visto che posso volare Posso andarla sopra Ah no Aspetta Cioè si In realtà va bene Devo provarlo In una stanza Con i nemici Top 10 Non necessariamente Usciti quest'anno Ma giocati Dovrei Dovrei rivedere La mia lista Purtroppo Ora come ora Non mi ricordo Tutti i giochi Che ho giocato Sono onesto Vediamo Cosa è uscito Psychonaut Sicuramente È sul podio Poi c'è Judgment Lost Judgment Possibilmente Che ho giocato Intendo Che altri giochi Di quali altri giochi Ho fatto la guida Non ho fatto Molte guida Quest'anno Mi pare Ah Guardiani della galassia Molto bello Però non Nella mia lista Preferiti Con una potenza Simile Almeno Se non trovo Una stanza Degli oggetti Insomma Ben attrezzata Potrebbe Mettersi Manuccio Grazie Almeno Ho Il vantaggio Della lebra Che mi permette Di colpire I miei Questo è buono Questo è buonissimo Beyond Goodenable 2 Molto bella Gola guida Già Beyond Goodenable 2 È un gioco Fantastico Che uscirà Nel 2013 Ricordiamocelo Chi c'è Rubens 5 4 3 Benvenuto Nella auto community Vediamo un po' No Direi che posso Riprendermi Il coso Che fa danni Questo 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 Non fa per me Mi permettete Di uccidermi Sì Ciao Breaci Vediamo un po' Che altri giochi Ho fatto Potete farmi Un reminder Delle guida Che ho fatto Nel 2021 Sul serio Non me lo ricordo Niente più accordi Ma non Frega niente Auguri per le buone A tutti Buone feste Auguri anche al tè Mi sa che ho tipo Quello di Sansone Quello che mi permette Di infliggere più danni Man mano che mi danneggiano Credo Questo potrebbe essere bene Se perdura Nelle stanze No Cazzo Peccato Tagliate i capelli Se Non ne potevo più Di avere sempre Quel ciuffettino Lì che mi andava Andava in mezzo agli occhi Quindi Se trovo Insunque Tanto mi ripiglio Di come dicevo L'oggetto di prima Lì la Presunta Cannuccia Almeno Perché sei diventato Una cacca Almeno il vantaggio Del volo c'è Peccato per sto Oggetto qui Non c'è proprio modo Di prenderla Mi sarebbe servito Che ne so Mister mi guardi Ecco Quello Sarei riuscito A prenderlo Con quello Niente Non riesco a parlare Gente Tanto per cambiare Ora Gradirei Adesso Tipo Un qualche oggettino Finuscolo E carino Li ho ammazzati tutti Spero che siano morti Sì Naturalmente È una zona In cui mi servono Dei soldi Direi prima Quello scontato A sto punto Senza la A però E poi E poi mi ha preso Meno soldi Quanti era? Quattro? Gioco che aspetto Di più Ora come ora Penso Oh no Questo no Questo non mi piace Non ho assolutamente Nessuna aspettativa Riguardate Kingdom Hearts Al momento Comunque Gioco che aspetto Di più Credo sia Hogwarts Legacy Per una questione Diciamo Nostalgica Più che altro Sono un nostalgico E aspetto a riportare Hogwarts Legacy Oio Ma io posso infliggere I danni a distanza Sono scemo Sì Lo sono Poi che altro c'è? A febbraio usciva Un gioco bello Ovviamente Al momento Non mi ricordo Nulla Kenner Ratchet & Clank Resident Evil Village Resident Evil Village Però l'ho fatto in live Non era male Per essere un horror Meno i jumpscare Vabbè New Replicant Molto bello Anche quello Mi è piaciuto moltissimo Oddio Mezza faccia Mezzo fungo Mezzo rosario Dollaro O O dollaro E che cosa fa? Che cosa fa? Niente Forse mi ha dato Un cuore eterno Per dire la verità Febbraio Di cosa volevo Far la guida pure C'era Horizon Anche No way No way cosa Scusa Sì Mi ha dato ancora Ancora Un cuore Un cuore Dai Tecnicamente ho cuori Al massimo adesso Se aspetto un attimo Elder Ring Giusto Non è uno di quelli Che aspetto di più in assoluto Ma Voglio provarlo Comunque Maxati cuori Maxati cuori rossi Sì 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 Tecnicamente se lo appoggio E poi ve lo riprendo Visto che carichi infinite Non dovrei poterlo Ricaricare subito Eh temo di no Zelda Breath of the Wild 2 Magari Magari Aspettate No Voglio sistemare prima I boss Finchè son qua Tutta questa fatica Solo per una moneta Perché diventa una cacca Soldi per il coso Nello shop Giusto Giusto osservazione Quindi posso Posso passare il tempo Mentre vado di là Posso Maxarmi tutti i cuori Io ho tutti i cuori Sì mi ripeto Quanti siamo? Ancora 54 Ma sarà vero? Non posso avere il counter Di visualizzazione In tempo reale Purtroppo Sto programma funziona così Sarà meglio che sia bello Altrimenti minero personalmente Le ginocchia di Martin Se lo meriterebbe Q Anche questo Q Gomma Gomma Ok Aggiudicato direi Però prima Maxiamoci i cuori Gomma infinita Gomma infinita Gomma infinita Caosone 1 1 1 1 1 Benvenuto Nella 8 community Run finita Non è detto Metti che trovo un oggetto Come quello di prima Che mi glitcha Tutto l'universo No 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 Non facciamoci tante illusioni Ah è vero Devo aspettare Dai Manca Dai Solo un paio di cuori Facciamo un cuore basso Basta dai Tanto ne avanzerebbe uno Alla fine E magari l'ultimo me lo tengo Per un cuore d'anima Take a coffee La freccia nel ginocchio Di Martin Di Martin Anzi Ora basta Bene Che figata Che figata Posso ancora sparare Sì Il coso qua Spara ghiaccio Tra l'altro Ancora meglio Ma Ah riempi anche lui Le mie lacrime Un po' mi ammonte La mia strategia Ma va bene Cancellerò Dall'esistenza Ogni nemico Che figata Devo trovare però I nemici Dov'è il nemico Portatevi il nemico Addio fantasmi Addio scheletri È stato bello E' stato bello Conoscervi Addio ciccione grasso Addio Tizio in carne Che insegue Qua devo Un po' le lacrime Che fanno paura Adesso Non c'è logica Spiegazione A una tal Cancellazione Necropoli 2 A me sembra Vabbè Sapete benissimo Cosa sembra Non serve che lo dica Eccolo qua Il coso d'anima Mi terrò Il blocco di ghiaccio Però per il momento Addio popò Addio chiunque fosse Da queste parti Poco fa Immagino Gomma masticata Addio Distributore automatico Di mosche Addio golem No Niente golem Addio Che brutta roba I golem rimangono Sono immuni Addio Chi c'era qui Arrivederci Ciao anche a voi Delizioso Delizioso Cancellare dall'esistenza Tutti quanti Quelli che mi hanno fatto Patire le pene Dell'inferno Fino ad ora Maschera Dovresti poterti riprendere Grazie Stanza dell'oggetto Tecnicamente potrei andare avanti E finire la run Molto facilmente Adesso che ho cancellato Metà dei Metà dei nemici base Però voglio comunque Vedere se riesco a contribuire Ulteriormente al caos Il pingas Il pingas dell'inferno Immagino che ci fosse qualcuno Da queste parti Questa cos'è Tic Cross Bless Tic Cross Bless Uno che è la croce E i tic C'è il negozio Vediamo un po' se possiamo Contribuire ulteriormente al caos Derai Isaac Rilassante Sono d'accordo Soprattutto se non ci stai giocando Tredici Questo lo posso prendere Cos'è un famiglio Ives Kiss Non ho idea di quello Cosa sia successo Mi ha appena Tolto la gomma Va bene Cos'è cancello Tutto quello che Tocco Ho visto bene Mi ha anche fregato Un cuore A dire la verità Non importa Non importa È una di quelle Rarissime circostanze In cui non sono Non mi interessa Come va a finire Praticamente Adesso vediamo Se riesco A vedere Che fa sto oggetto qua Ah si Forse Forse ho trovato Un oggetto Altrettanto buono Però devo aspettare Che finisca Se c'è qua Krampus è morto Bene Ciao Krampus È stato bello Conoscerti Pokego No È meglio questo qua Direi Purtroppo Ci mette un po' Per caricare Ma contro i boss È un toccasana Aspetta La Polaroid Ce l'ho Ed è la Polaroid Bene Quindi devo andare Dal Blue Baby E basta Sì Solito Solito percorso Passiamo Passiamo dalla gomma Al Al Mega laser Insomma Peccato Che non ho cancellato Anche voi What Scusa Ti spiace ripetere Oh no Temo di aver Ah no Il Passaggio segreto Arco Giuda Vabbè Vabbè Ho schippato Un oggetto Non posso farci niente Non ho la più pallida idea Di come ho fatto adesso A questo punto Tanto vale che mi faccia colpire Più conveniente Il re del suicidio È il caso di dirlo Questo cos'è? Uno ti rende più largo Eh vabbè Pazienza Chi è morto? Io no Che cavolo sta succedendo? I ragni diventano Cacche Bombe cacche Cacca Merda insomma Vabbè Se ti cerchi la vita dura La trovi E caro mio Almeno più volte Mi colpiscono Più Più volte mi colpiscono Più Più divento forte Per una stanza Almeno Oh no Oh Cristo Non mi aspettavo Tutte queste chiavi Una reazione Vabbè Può succederti tutto Diamo un po' Io sono preoccupato Avrei preferito le bombe Più che le chiavi I nemici Diventano cacca bombe Riuscirò a caricare Al massimo Il mio coso Qua Il mio Oggetto attivo Entro domani Magari Non sto capendo nulla Mettiti in coda Amico Perché anch'io Non ci sto capendo Una sverza Ed è questo Il bello Stanza degli oggetti Attenzione Oh oh Questo non mi piace Invece Cacca bomba Mosche E ragni Mi sembra Vengono invocati Anche che vengono invocati Si trasformano in cacca bombe Quando la stanza Viene completata Rilascio una Scoreggia gigantesca Gigantesca Scusate No Deformazione professionale E forza dell'abitudine Aggiungerei Non è diventato Di ghiaccio Questo me lo tengo Lì Non si sa mai Uh Adesso qua Non posso Creare Delle Di volta Vedo Ste ombre Da Non posso Creare Un passaggio Per il piano Inferiore Insomma Ah Anche i nemici Forse davvero Dipende da chi Da chi mi tocca Vediamo che succede Adesso vive Adesso muore Oh madonna santa Oh ma che bella Sinergia Comunque Ora che Ora che L'ho noto meglio Non mi sono mai piaciute Quelle Neanche a me No ND Controlled Free Non l'ho letto bene Vabbè Sono underpotenziato A bestia Però Intanto Mi prendo la chiave Di prima Che dovrebbe Darmi un pizzico Di carica Metà carica Per l'esattezza Tanto Mi dura più stanze Come mi dura più stanze Quando Dunque Isaac Poi Blue Baby Vediamo un po' Che aspetto avrà Cattedrale All'aspetto più di una Fogna Non 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 completamente Inondata Stavolta Ale Razzi Benvenuto Nell'Otta Community Buona Buone feste Buona vigilia Tutti quanti Che sono collegati Naturalmente Fortissimo Quell'attivo Sì Però Sarebbe ancora più forte Se Devo avere anche L'effetto dell'occhio Molteplice O Qualche altra cosa Non so Perché sparo Sparo lacrime Un po' dovunque Ma Spesso e volentieri Anche Due volte Di fronte Non resta Paralizzato I love Sped Ah Ecco cos'è Questo spiega Tutto Tutto No Allora Non riguarda Soltanto I I nemici Normali Cioè I nemici A random Vengono trasformati In cacca Ok Con Qualche tipo Di criterio Anche le mie stesse Bombe Diventano cacca A volte Che cagata Quello obiettivo Mother No no ma Cioè No è il Blue baby Però Però ricordiamoci Che questa è una sfida Che questa è una sfida Quindi Non Cioè Sbloccherò solo Quello che sblocco In questa sfida Che è ultra Glitchata Spero di spiegarmi Sono confusissimo Merda E non so più Che Non so più Che cosa pensare Ci deve essere Una spiegazione Vorrei tanto Averla La spiegazione Ma non posso Scommetto che anche lui Diventa qualcosa Adesso Peter Sephir Benvenuto Nella Outa Community 56 spettatori Magari Avessi tutti Sti spettatori In tutte le live Se avessi 75 Poi fissi per un mese O più di 75 Ancora meglio Potrei finalmente Diventare partner Mi raccomando Seguitemi anche su Discord Per restare in contatto Con me Ho confuso le strade 48 Ah bene Adesso sono diminuiti Quindi male 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 Cacca Caccapupu Oh cielo Ah beh Meglio Crystal key Fantastico Mi piace altrettanto Anche questa qua Questo cos'è Ampus Crampus Ra Non c'era dubbio Ah le chiavi Non mi mancano F key Belli Aspettate un attimo Scesco qua Voglio vedere prima Che cosa fa Caga una cacchetta Mi riprendo quello di prima Direi che è un pochino meglio Un ticchini in meglio Attiva Mega Princeton Più stanze Ah sì Quello intendevi Sì sì Certo certo Ma Voglio usarlo Sicuramente usarlo Solo con Contro determinati nemici In ogni caso È pura prudenza Oh mer Si va Ha trasformato Anche le mie lacrime In Enmj Adesso Che questo lo usiamo In un'altra parte Spawno due nemici Fantas- E spawno anche due feti Che ho lanciato Ho visto bene La confu- Orco giuda Potremmo farmi dare un oggetto Vabbè Secret room Non c'era un stato Infliggo danni a nemici Che sono A NPC Praticamente In qualche modo Ce la faccio Dai Mi ha morto il famiglietto Dai pazienza Guerra Il nemico Ci dichiara Guerra Non posso Trasformare In caca Anche ste bombe Per caso Non mi dispiacerebbe Rispetto all'altra sera Eppure la sera Della vigilia Infatti È stranissima Come cosa Accidenti Non si era fermato Lo ero fatti Dopo tre volte E vola via Madonnetta Se l'oggetto fosse Damocle No non mi spiegare Cosa fa Damocle Voglio Voglio poi scoprirlo So di averlo sbloccato Ma non Non so che fa Voglio scoprirlo Da per me Magari quando Uso Dello host Come ha detto Il doc Io sono ancora Vi ricordo Questa è una Blind run Quindi per me Ancora Molte cose Sono ancora Ignote Di Isaac Gran bella Ricompensa Che è successo Perché ero diventato Viola Ma volete diventare Proprio Grazie Piedoni Della mamma Non mi fligo Danni Con sta aura Potrò pur Potrò pure Escogitare Strategie alternative Cos'è Feci Feci Oh no Feio Feico Fe dieci Insomma Mi ha diminuito Delle cose Basta Immagino Ripiglio Questo Che non si sa Mai Aspetta un attimo Mi ha aperto Altre stanze Però Forse era La chiave rossa Oh eh Tanto Non sbloccherai Nulla In ogni caso Vuoi farla Ingelosirla Ti faccio Mie condoglianze Per cosa What for Isaac Ah devo aspettare Che finisca L'effetto Però Ah e ogni tanto Mi da degli oggetti Così Gratis Rother Is V E Reusab Is Broth Una schifo Che questo Teniamoci questo Ora ho già capito L'andazzo 59 spettatori That's good That's very good Curse of the lost Che gioia Va bene Prendiamo tutto Quello che c'è A prescindere Dalle conseguenze Non so che fa Non so che fa Non so che fa House Il house Teniamoci questo Ho capito Però In effetti Visto che Dovrò affrontare Soltanto Dei gran boss Adesso Quanto forte L'attivo Se Se poi trovassi Anche Il boss Finale Il blue baby Sarai ancora Più contento Oh Non male Cos'è La versione Aliena Di succubus No Host Game More Sono tutti oggetti Attivi Diamine Non posso Prenderne uno Quanto meno Almeno mi apre Le stanze rosse Trovassi almeno Qualcun oggetto Mixato Con Qualche Non so Qualcosa che mi dà Le cariche infinite Prova gli altri Quattro E metti che mi Cancella questo Avrei preferito Degli oggetti attivi Passivi Pardon Dai Passivizzatevi Soprattutto datemi un po' di cuori Quelli che mi dispiacerebbero Adesso Sto cominciando Leggermente a crepare Sul serio I Hazard IA Vedi perché non volevo usare un oggetto attivo Vedi perché non volevo farlo Vedi perché non volevo farlo Cos'è non vai più avanti adesso Usa Il caso Damocle Vedi L'ho usato E ne ho pagato le conseguenze Immaginavo Io avrei preferito non immaginare Visto che mi mancava tanto così Questa volta mi ho un po' irritato Visto che ero a mezzo micron Dal completare la sfida Vediamo se faccio continua Dove mi porta Oh grazie al cielo Grazie al cielo Ok evitiamo come la peste Quella zona lì Posso continuare Non si sa mai Eh se solo avessi ancora la gomma Quel distributore automatico di gomma Era molto stuzzichevole Purtroppo però Ho una potenza molto scarsa Va bene Esiti divertenti Sì ma Quell'esito era un po' discutibilissuoso Ha salvato Infatti è un miracolo che abbia salvato Solitamente mi fa perdere tutto Quando tipo resetto le partite Qualcosa di simile Forse hanno cambiato qualcosa In Repentance E dai minchia Se vado avanti così con le cacche Figuriamoci con gli altri Con i nemici normali Solo oggetti passivi Non mi interessa quello che avete da offrire qua Non prenderò altro che oggetti passivi Voglio ammazzare Cosoli E blue baby E basta 21 e 32 Ancora un'ora Vi ricordo Ancora un'ora Che bello che almeno non mi colpisca Salveva sempre Quando inizio Un nuovo piano E Non mi sembrava Lo facesse un tempo Ma se tipo Mi avvicinassi E facessi così Beh almeno aumenta È vero Almeno aumenta L'attacco Che ho utilizzato La carta The stars In mines Così Proprio A random A svutum A slucchium A babaurum A laudanum A cartarpopum Lì Aquarium No 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 Vi riconosco oggetti Siete gli stessi di prima Oh E Porca puttana Mi stanno inseguendo E dagli sta Damocle Non so che fa Damocle Non lo voglio sapere Sai che ti dico Mi faccio colpire Ecco qua Là Forse ho un'invincibilità Prolungata Dopo che mi colpiscono Mi sembra che sia durato Un po' più del solito È un DPS Incredibile Uh Stanza rossa Però Purtroppo questo è un What No 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 Teniamoci questo Quello cos'è invece? Ah non c'è niente Ok Peccato Mi aspettavo quasi Quasi mi aspettavo la Ultra Secret No 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 Trasformatevi in cacca Dai Tutti i nemici di prima Erano Erano molto propensi a farlo Fatelo anche voi Rendete contento E fiero il vostro Il vostro buono Takumen Comunque questa sfida È da rifare Dobbiamo assolutamente Rifarla Solo per divertimento Stanza rossa Stanza rossa Avanti un altro Oventiamo l'attacco Vedo eh Non devo più farmi colpire Non devo più farmi colpire Chi c'è? Killer Gamer 841 Benvenuto Nella auto community Immagino Benvenuto Oh Fermo Fermo Si Coin Remember Mi ha appena Sovrascritto L'oggetto Di poco fa Bene Sono fottuto Range Da questo punto Usiamo anche gli altri oggetti Bene C'è anche sta roba qua Adesso Hazard Ma mi cancello Ogni oggetto Che prendo? Wow Di male in peggio Vedo Ma dove sta La potenza In tutta sta combinazione Sto facendo schifo A spruzzissimo Tipo Ti ho aumentato L'attacco adesso? Non mi ha colpito E la crime erano queste? Jar Save your life Come dici tu Caro mio Come dici tu Mi ha incasinato L'universo Sì Mi cancella Gli oggetti Che prendo Vediamo Che fa Ah al massimo Pazienza Ha spawnato Uno di questi Ok Forse avrei dovuto Aspettare Ah adesso Oh il colpo Caricato Oddio In realtà Ok 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 3 dollar bill Presunto Ok Sono sempre più confuso Gente 60 60 Aspettatori Iscrivetevi sul server discord Se volete vedere altre live Gente Cioè se volete vedere altre live Basta che mi followiate qui Ovviamente Però Se volete restare in contatto con me Visto che questa è l'ultima live dell'anno E il momento È giù Ah non l'ho attivato io Qualcuno mi salvi da me stesso Quindi c'è anche questo effetto random Ok Mi va bene Mi va bene Mi va bene Ah Uh No L'ali Lule No Fatti vedere però Ma cos'è infinito Oh merda Non mi dire che vale come tutte le lacrime adesso Cioè il mega laser ora Sono tutte le lacrime Perché sta durando da un po' eh Eh sì Oh mamma mia Davvero Non posso fare altro Se non vomitare un laser gigante Aiuto Aiuto Qualcuno mi fermi Ho paura a toccare Ok Buon Natale Granate Buon Natale chat Buon Natale a tutti quanti A tutti voi Buonanotte Togli SFX per l'acmerd Non ho capito una sverza di niente Scusami Ok Dove si trova coso lì Eh sì ok Siamo tornati al punto di partenza Vedo Forse Forse meglio Perché devo affrontare solo dei gran boss Anche se la salute Continua a scarseggiare Ti vomito in faccia Ma come è Oddio Oddio Che casino Che casino Fermatemi Vi prego Mi manca così poco Per concludere Fermatemi Fermatemi Probabilmente va avanti Sapete cosa Credo che Si sia mescolato con Car battery Uh portoghese di ace Ha fatto una donazione da 3 euro Cazzo non l'avevo sentita Aspettate un attimo Ringraziate portoghese di ace Ma non ho sbloccato niente Non ho sbloccato nulla Apparentemente Temperance Cazzo non l'ho fatto in tempo a vedere Temperance Ma ce ne sono due di Temperance Oh Qualcosa ho sbloccato Oh qualcosa ho sbloccato Ma non so cosa Perché non l'ho fatto in tempo a vedere Temperance reverse Ah no 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 Aspettate Non dite oltre Non dite oltre Voglio riservarmi il senso della sorpresa Quello senza il punto di domanda Ero troppo preso Dalla Dalla Ponderazione Uia scusatemi Non ho visto la notifica No l'ho rimandata poco fa E' arrivata Carte diverse Ma con nome uguale Se mi capiterà Dara un'occhiata Comunque dai Abbiamo ancora un'ora 61 spettatori Grandi Grazie a tutti per aver scelto Qualità otacumen Alla vigilia di Natale Abbiamo ancora tempo Per una sfida Deve durare meno di 50 minuti Volendo e potendo Aspettate un attimo Sto controllando Visto che devo uscire Dopo sapete com'è April Fool Si l'ho fatto E non mi ha molto divertito Questo qua era molto più divertente Dovrei fare quella roba lì Con Bethany Bethany mi pare Per sbloccare la 38 37 Isaac awakening Cantrate Facciamo così Un attimo Datemi un secondo Faccio al volo Una cosa Un'operazione Per Dove stanno i poll pure Widget Ah no è qua Scemo Su Twitch Ne dura tanto Ma tanto Deve durare massimo 50 minuti Massimissimo Non deve essere Una cosa lunga Ribadisco Red Deademption Red Deademption Ma Mi dico che dura un sacco Red Dead Redemption No Eh infatti Cantrate Tutti a favore Di sto Cantrate È divertente Le prime 35 Le hai fatte Sì 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 Tutto fatto In tre salvataggi Diverse Ribadisco Eh visto Tutto fatto Tutto fatto 42 Cos'è Hot potato Deve essere Corta e divertente Corta e divertente Abbiamo già fatto La glitch run Come cavolo Si può chiamare La senza noi Insomma La pica run Anche quella molto divertente Hot potato Fai sing double Vedo che tutti Sono molto d'accordo Andrope Anzi Facciamo così Giusto Ritorno Ritorno Dove l'ho rimasto Che challenge Facciamo Deve essere divertente E durare Meno di 50 E' un po' 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 di 50 Questo Isaac Awakening Visto che è la prima volta Che lo sento Isaac Awakening Sperando che duri Il giusto 5 minuti Per il sondaggio Dai Il resto E' un po' di 50 E' un po' di 50 E' un po' di 50 C'è un po' di 50 Ci sono ancora 5 minuti di tempo Anzi 4 minuti di tempo Dai Votate finché ne avete l'occasione Io vado a fare due gocce Non assentatevi Vado un attimo a svuotare L'anacleto Voi votate il sondaggio Mi raccomando Torno subito Due minuti Non andate via Due minuti solo Vado un attimo a svuotare Vado un attimo a svuotare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Isaac's Awakening, anzi. Molto poco. Fino a Mother. Fetus. Sì, dai. Proviamo questo fantomatico Isaac Awakening, allora, dai. Però devo aspettare... No, devo essere corretto nei confronti di tutti in questo caso. Devo aspettare la fine del sondaggio. Vorrei mostrarvelo. Anzi, posso mostrarvelo. Aspettate un attimo. Anche se è soltanto temporanea. Aspettate un attimo. Sondaggio. Ecco qua. Posso mostrarla con la nuova interfaccia che userò da... Perché vi ricordo che cambierò interfaccia, eh. Dall'anno prossimo. Visto che festeggiamo i miei 15 anni su YouTube, praticamente... Perché non c'è... Perché mostra fin qua? Dovrebbe essere molto più ampio. Non mostra la parte sotto. Ah, fantastico. Spessore font... Altre opzioni... Barre... No, non lo mostra tutto per qualche motivo. Curioso. Vabbè, non so perché. Qua mi mostra soltanto fino alla terza. Però non va più in giù di così. Tantissimo 15 anni. Eh, sì. Ho vissuto su YouTube, praticamente. Comunque direi Isaac Awakening. Sono 8 voti. Hot Potato 6. Sing Double 1. E Cantrip 2. Direi Isaac Awakening. Speriamo che non duri tantissimo. Perché come ho detto ho tempo massimo fino alle... Infatti ecco qua. Isaac Awakening vince. Ho tempo massimo fino alle... 10 e mezza. Bene. Quindi andiamo con Isaac Awakening. Praticamente dall'inizio. Esatto. Io c'ero dall'inizio, infatti. The Mother... Maseo P. Va bene. Isaac Awakening. Basement. Ehi, ma la spada è un oggetto nuovo. Che figata. Questo che fa invece? L'oggetto passivo qua cos'era? Quello che lancia gli oggetti piccoli, mi pare. Sì? Una forte. Ah, ma è una citazione a Zelda. No, aspetta un attimo. No, vabbè. Fighissimo. Voglio questo oggetto nel gioco base. Ditemi che la spada c'è. Si raccoglie gli oggetti da spada. No, ma è una figata assurda. E si carica anche in fretta. Sì, è una citazione. Vabbè, era una ovvia citazione a Zelda. Ma non mi aspettavo fino a questo punto. È una versione migliorata di... Come si chiamava? The Legend of Ice. Non so, insomma, c'era un altro... L'altra sfida a tema Zelda. Lo scudo para i proiettili? Quello non lo so. Divertentissimo. Ma chi deve affrontare? Scusate un attimo. Che cos'è quella roba lì? Mother? Oh merda, mother. Io pensavo mamma al piede della mamma. Invece se è mother è un bel problema. Uff, ok. Mother sia. Soprattutto perché è il percorso difficile. Va bene, va bene. Devo obbedire alla chat. Poi è la vigilia di Natale. Me lo posso anche permettere. Carica il colpo della spada. Ma l'ho fatto, infatti. Non hai veduto quanto ho fatto? Oh, ma che cazzo? Si era disattivato per qualche motivo. Ti tiro i sassi. Ah no, è vero, sì. L'ho aperta io? Non mi sembra. Probabilmente si apre da solo allora in queste cose. Non ci sono tesori però. Spiacevole. Quanto meno posso. Che figata. Posso... Joker. Aspettiamo... Aspettiamo gli accordi con gli angeli. Spamma che fai un botto di danno. Curse of the Delay. C'è bisogno di rompere i sassi e la spada raccoglie oggetti che attra... La spada raccoglie gli oggetti che attraversano i sassi. La trovi in avia il top. Sarebbe il colmo. Diventa davvero Zelda. Quindi non posso fare affidamento su... No, lasciam perdere invece no. Cos'è pure... Insomma non era brutto come pensavo questo. Quindi posso anche prenderlo. Questo non posso prenderlo invece. Con questo è meglio averne... Di questo è meglio averne un bel po' invece. Quindi l'obiettivo primario resta il boss. Ora come ora. Visto che non devo... Non devo... Sperare di trovare la stanza degli oggetti. Possiamo far di meglio però. Colostomia, che gioia! Me l'aspettavo. Brava, vai giù. Ah no, per aspetta, no. È vero, vai giù un corno. Devo... Devo schivare le sue nuvole. Fuck! Nel male che avevo il cuore d'anima. Ah, diavolo, no. Range. Cosa me ne faccio del range? Sì, andiamo giù e speriamo nell'accordo con gli angeli. 49 spettatori. Vabbè, si sta facendo tardi immagino. Alcuni saranno anche a cena. La cena natalize. Oh, che bello. Che bello, che bello, che bello. Ho fatto una cazzata qua. Vabbè, oh, ci ho provato. Meglio. Qua c'è la boss room. Dunque, però, se devo affrontare madre, ho bisogno comunque del coltello. Cioè, devo andare comunque a fare tutte le cose che dovevo fare con madre di solito. Cioè, intendo... Cioè, intendo prendere le due parti del coltello. Solito passando è passare a Natale da solo. Domanda tra bocchetto. Non me l'ha fatta. No. Hai schifato la treasure prima o mi sbaglio? No, non ci sono le treasure. Oh, sì. Aspetta, no. Allora c'era. Ho fatto una cazzata ancora. Ero sicuro non ci fosse. Che strano. Natale Gorkovi, che culo. Orco Giuda. Spero non ci abbia davvero. Mi spiacherebbe. Questa cos'era pure Tarocchi. Non me lo ricordo. Non mi ricordo l'effetto che fa. Chi ha? Che fa? Mim, mim. Questo invece me lo ricordo. Anche se non è un oggetto. Si, spona, spona. Accetto. Che fai prima il boss? Crea due portali magiche inizio piano. Due portali magiche. Ah, sì. È quello che tipo crea un portale per il boss e un portale per l'oggetto. Giusto? Questo run. Legend of Isaac. A mother to the past o far to the wild? A far to the wild. Visto la quantità di scoreggio che abbiamo avuto nella run precedente. Quindi dicevo, devo fare comunque tutte le robe di mother, eccetera. Non so quanto mi piacerà questo. Ma va fatto. Ok. Quindi devo bruciarmi e andare nello specchio. Ok. Non mi diverte molto essere The Lost. Quanta stala devo fare? Un po'. Sta all'occhio che mi ti colpisce ugualmente. Mi preoccupano un po' sti nemici. Hai l'alimental. Oh, è vero, è vero, è vero che dall'inizio c'è l'alimental. Non sono Tainted Lost. Quindi non corro quel pericolo lì. Anche qua, forza dell'abitudine. Range Up la spada è più lunga? Non lo so. Sono sicuro di non saperlo. Potrei anche fare il boss di nuovo, volendo, eh. Potrei anche farlo, a dire la verità, potrei proprio farlo. Se non mi becca un proiettile nemico, si intende? Ehi, ahi, 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 ahi. Velocità, tutta sta fatica per la velocità. Va bene, va bene. Accettiamo il destino così com'è questa volta. Così vado dagli angeli. Sì, ma voglio tornare prima nell'altro universo. Poi comunque la possibilità è a zero. Lo facciamo ugualmente. Zero pure questo. Occhiatina volante. E aggiorniamoci. Dunque, sono sicuro di averlo già preso. Mette una... Ah, sì, Laura che infligge danni intorno a lui, insomma. Attento, perché attento? Perché attento, scusa? Sbaglierei qualcosa? No. E il delay? Ah, è vero, non sono più The Lost. Che me ne frega del resto delle cose. Uff, che pelo. Basta. Siamo a posto. Tecnicamente, visto che sono entrato nella stanza degli angeli tramite Joker, la possibilità della stanza degli angeli dovrebbe rimanere invariata nel piano successivo. Non serve uccidere gli angeli. Lo faccio per gli accordi. Lo faccio per gli accordi con gli angeli. Serve per me, per essere più potente. Cioè, già infliggerò danni ai nemici che si avvicinano, figuriamoci poi dopo. Quindi, pezzo del coltello. Ok. Qualcosa degli angeli col vestito rosso e quello col vestito blu. Quello col vestito rosso è più potente, è più resistente e ha attacchi più... No, forso più a nostro. E ha attacchi più devastanti. Aha! Prendiamo tutto stavolta, non sono The Lost, quindi voglio godermela fino in fondo. E aumentiamo ulteriormente la probabilità di Angel Room nei piani successivi. Non dovrebbe lanciare le cose che si attaccano? Mini Death. Meno male che c'è Mini Death, almeno stavolta. Sì, le caccole, bene. Quanto brutto caccole. Grazie, prendo tutto. Sì, esattamente come Legend of Zelda, proprio come lo ricordavo. Nope, nope. Ah, che bello essere overpowered. Cioè, che poi non è che lo sia proprio completamente. Però, è un ottimo inizio. Rispetto alle Lai di Jacob e Esau che ho fatto, insomma, le ultime volte, mamma mia. Tanto faccio schifo con loro. No, questa volta lasciamo perdere. Una spada di caccole. Una spada fatta di caccole. O con le caccole della sua, come si dice, struttura. No! Vabbè, va bene, va bene. Il folle. Il folle sono io che sto facendo sta sfida adesso, quando ho il tempo limitato. Non è finito. No, 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 t'ho visto, t'ho visto mascherina. Per quanto la gomma mi faccia molta gola, non saprei se prenderla o meno. Se è gratis, forse. Beh, quello è gratis, intanto. Perché se devo far madre, in effetti avrei sempre nemici diversi ogni volta. Non so se ne vale la pena. No, 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 mi tengo questo. Perché questo qua non sarebbe male. La coerenza della sfida non dovresti. Infatti, non mi capita mai di dover lanciare le pietre. Però facciamo che provo a restare con questo setup, a meno che non ci sia una cosa altamente irresistibile al suo posto dopo. Ma altamente irresistibile. Proprio una della quale non potrei fare a meno. Quindi la treasure room, quindi si trova? Non mi sembra che si trovi su questo piano. Adesso do un'occhiata alle altre stanze, giusto per ufficialità. Ma... Abbastanza si deve aver viste più o meno tutte. No, c'era questa ancora. E comunque non c'è la treasure room. C'è lo shop, c'è la treasure. E sarà, ma... Aspetta qua, forse stanza segreta? Ancora range. Ma che bene faccio le range? Oh, mi hanno dato un asso di picche. Che bello. Continua così il gioco. Sì, oh, ribadisco. Sarà, ma io non l'ho ancora vista la treasure room. Qua c'è la stanza degli scrigni. Qua c'è. Non l'ha. A me pare non ci sia. Prima il pezzo... Prima per il pezzo di coltello. Sì, ma prima... Sono dove devi prendere il manico del coltello. Sì, quindi dopo non ce ne sono altre. Giusto? È una di quelle sfide in cui ti fanno trovare le treasure room solo in determinati piani? Solo quella. Ok, ok. Allora ho la conferma. Ci sarà anche lo shop, ma treasure room non gesta. È destino. Oh beh, almeno posso fare affidamento su quelle degli angeli e su quelli dei boss. Sì, anche se avessi better items forse... Va bene. Allora, dove ne eravamo rimasti? Uh, mi attacca. Non sta attaccando! Non sta attaccando! Non sta attaccando! Deve essere se l'ha presa male. Questa bombettina è per te e per i tuoi fami... I tuoi cosi. Eh, ma nel stato dell'angelo ci sono già stato a sto piano, quindi... Eh, purtroppo non posso farci niente. Quindi devo ancora fare quella roba lì della fuga dalla bestia di Satana, che è al piano di sotto. 53 spettatori a vigilia di Natale. Se li avessi il resto dell'anno. Se li avessi. Se solo. Se solo. Se non siete follower, diventatelo. Facciamo diventare grande la community di questo canale. E quella su YouTube, naturalmente. Mr. Mega. Forza! Beh, forza tecnicamente è in tema con Zelda, quindi... La triforza della... Forza, questa cippa. Uh, volo! Non è proprio a tema Zelda questo, ma... Vedremo di accontentarci. Che disdetta! Non siamo più genuini adesso che abbiamo trovato il volo. Oh, sono disperato! È vero, non posso accedere? È vero, vero, vero. Che palle. Quanto meno, almeno... Quanto meno, almeno adesso danno oggetti garantiti le challenge room dei boss. Ah, che cosa è un attimo? È andato un perro nel nado. Ah! 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 Aiuto! Fuoco! Fuoco bandicoot. Direi che stavolta possiamo anche far prima questo, se riusciamo. Cerco il mio potere di Breath of the Wild solo permanente. Sì, ma non possiamo volare in Breath of the Wild. Possiamo planare al massimo. Uh, 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 uh! Sani e salvi! Senza subire danni da caduta, soprattutto. E dai, questi fantasmi. I fantasmi ci sono in Zelda! Hanno un altro nome, però. Po, mi sembra. Dunque, cuore d'anima. Chi c'è? Ah, vabbè, da YouTube. Va bene, lo stesso. Facciamo subito la cosa del coltello. Voglio, voglio levarmi questo sassolino dalla scarpa. Al massimo moriamo. Scusatemi. Sto digerendo il pasto di oggi. Sono andato a White Bakery. E mi sono fatto una bella colazione completa. Adesso, stavolta, non possiamo più puntare sulla fuga e basta. Non posso vincere la battaglia grazie alla mia fuga. Rispetto a quando faccio, come faccio di solito, quando sono con Tainted Lost. Quindi dovremmo semplicemente darci la gambe e studiare bene il passaggio. Già ho notato che la zona qui di fianco è più complicata rispetto al solito. Fantastico. Morire col volo, difficile. Eh, non si sa mai. Spengo le fiamme per gusto personale. Gli frego anche i soldi. Isacca! Puoi uscire da qua! Ecco qua. Questo è uno di quei punti. Ecco, eh. Le cacche dove prima non c'erano. Può farmi dei danni. Può farmi dei danni. Non devo non subir danni in questa battaglia. Non so che permettermi un danno o due. Ma basta dopo. È tutta colpa di Ganondorf! Oh no. Cos'è che ho aperto? Ah, di fianco! Toglietemi questa cacchina di dosso! No, no. Meglio di qua. Non ci sono le mosche. Ah, ah, ah! Menomai che non è una sfida a tempo. Altrimenti sarei tre volte più nel panico. Ok! Allora. Coltello completato. Quindi si va giù. Come al solito. Si va ad affrontare il boss. Eccetera, eccetera. Yadda, yadda, yadda. The usual shtick. Come si dice in inglese. Quindi... Da qualche parte, immagino. Non so come può essere in questo momento. Non ho ancora capito se riesco a deflettere i proiettili. Però almeno non riesco a pararli. Quindi non è completamente da buttare, sta strategia. Cosa mi ha colpito? Non ho idea di che è successo, ma mi va bene così. Il negozio c'ero già entrato. Mi pare di sì. Sì, sì, è vero che ho preso un cuore d'anima. Quando ho preso il cuore eterno? Quello non me lo ricordo. Oh, quanto ti sopporto poco! Quanto sei antipatico, tuttossa! Vita extra, l'avrei preferito attacco, ma... E altra è tanto valido. Mini ping, come sempre nascosto nel pavimento. Ah, ok, micchia, che vista! Io proprio non me ne sono accorto. Allora, andar giù. Il coltello ce l'ho. Ash pit. Mausoleo. Che ore sono? 22.9. Perfetto! In perfetto orario. Povero Isaac. Sempre maltrattato anche dai suoi amici. Sempre che fossero suoi amici, naturalmente. Soldi. Che cavolo mi servono i soldi? Oltre al negozio, si intende. La tv che si arresta per inattività. Te la do io all'inattività. Non me lo sentivo stavolta. Inizio un po' a capire come funzionano le cose. Al mausoleo e a Gehenna. Gehenna? Maledette mugne! Se quelli sono amici, non gli servono le Nemesi. Non lo sentivo dire da un po' di tempo, questo. Ecco, con questi colpi è un po' più complicato, però. Visto che non devo farmi toccare e non devo neanche essere di fronte a loro. In nome della principessa Zelda, ti dichiaro in arresto. Ti condanna a morte? Qualcosa di simile. Oh cielo! Ok, questo non mi piace. Questo non è divertente. Mi sono divertito una volta. Questa non è divertimento. Le palle chiodate sono belle solo se le uso io. No. Sinistra-destra. Nigozio! Che cosa abbiamo mai questa volta? Una bella... Un bel scartozzo di niente a occhio e croce. La necromancia. La necromancia. Ah, la necromancia. Ah, la necromancia! Andiamo ad affrontare il boss. I ragazzi arrapati. O cornuti, vabbè. Horny vuol dire anche arrapati, quindi... Ho il diritto di dirlo. Ancora salute! E soprattutto, accordi col diavolo? Da quando? Ho fatto tutta sta operazione per aver accordi con gli angeli. Bella merda, via! Mi prendo questo e me ne vo. Una due... Dopo c'è il boss. Dopo c'è la... La porta da aprire. Devo fare altro? Nah. Chi c'è adesso? No, no, no. Non erano i miei amici. Era... Un avviso. Un avviso del... Del telefunken. Questi esplodono, questi esplodono, questi esplodono. Vedieni che ho ancora l'attacco base. Se trovo sta spada qua nel... Nella... Spero di sbloccarla quanto prima, cacchio. Se trovo questa spada qua nella partita normale... Insomma, non in modalità sfida... Per me è fatta, praticamente. Assieme al volo, magari. Mi attacco a 3,50. Figuriamoci se lo prendessi... Se avessi anche l'attacco aumentato. No. I cuori non mi servono questa volta. Questo viceversa, sì. Le cariche? No, non credo. Che esplodevano, non mi ricordo. Mi stalkeravano, però. Questo me lo ricordo. Vabbè. Me l'aspettavo che qualcuno mi avrebbe colpito quest'oggi. Ok, però c'è solo uno di voi due che salterà in aria quest'oggi. E questo è Isaac. Cioè, Isaac, sì, vabbè. Quello che assomiglia di più ad Isaac. Ad Isaac un po' più pulito. Oh no! Oh no! Oh, spammer! Però, però durante sta rana avrebbero dovuto come minimo... Come minimo aggiungere un tema musicale che scimmiottava Zelda, dai. Cioè, andava fatto, andava fatto, dai. Isacco! Si arrabbia, e se si arrabbia gli picco la spada nell'occhio. G, G... Aspetta, G, G, Co, Davide. Benvenuto nella Otta Community! Oh, c'è anche il boss Rush. Beh, in effetti ci ho messo mezzo secondo per arrivare fin qua. Do solo un'occhiata, non prendo niente, anche perché non potrei sbloccare nulla. Booger Tears. Ho già il naso di Goblin qua, o come cavolo si chiama. Non mi intriga, non mi interessa. Non ora. Il cuore della mamma. Della mamma e non della madre, ricordiamoci, fa una bella differenza. Che bello vedere che la spada si infilza, grazie alle caccole. Possiamo uscire e andiamo giù per il cadavere. 50 spettatori, va bene, va bene, va bene. Siamo più che sufficienti quest'oggi, dai. Cadavere 1! Il cadavere 1! Cadavere 1! Eh, vabbè, ho preso tutto quello che non volevo prendere. Ormai è andata. È fatta. Cosa abbiamo qui? Asso di cuori. No! Morte! Nemmeno! Questi non credo di averli mai visti, neanche nella partita normale, quindi dovrò sbloccare anche questi nemici, probabilmente. Se tanto mi da tanto, ecco la fortuna che ho. Questi invece sono quelli che attaccano le appendici, cercano di succhiarmi le budella o qualcosa di simile. Beh, l'essenziale è che mi attirano a loro. Mi attraggono a loro. Mi risucchiano. Alla fine tutto va sempre a parare sul succhiare, in un modo o nell'altro. Badum! No, non voglio brufoli su questo brutto cadavere. Deve solo marcire e bonale. Ma non prendiamo alla carica. Allora, 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 allora. Bastardo! Spero che ti faccia un gran male. Ah, era il corpo. Ah, quindi quelli di prima erano corpi di sti qua senza la testa. E non sono nemmeno le 23. Già, esattamente. Diamanti. Vediamo se vi scoprò a scrivere i cuori marci. No. Vediamo un po'. Come ben sapete, non sono ancora pratico dei boss nel cadavere. Quanto meno posso allontanarmi. Um! Strategia, eh. Strategia per evitare danni. Oh, basta! Che diamine! Un po' di grazia. Che c'è adesso? Ah, i vermi. Ah, grazie al cielo. Che cazzo è stato? Che cazzo è stato? Sei stato forse tu, pezzo di merda? Ma è lui? È lui che invoca le robe che mi fanno male. Ma che cazzo? Occhi croce direi questo. Ok, ma... Io e te, mini guerra, dobbiamo fare un piccolo discorsetto dopo, eh. Allora, vediamo. Magari se faccio questo solo qui... Niente cuori di danima. Vabbè, me l'aspettavo. Non ce ne sono neanche altri. Non ci sono altre stanze. Va bene, andiamo giù. Che cacchio diavolo è stato? Eh, a saperlo l'avrei detto. Invece non lo so. Purtroppo... Di chi è sto cappello? Ah, è mio, certo. Cadavere 3. Quindi, in teoria, si va per la madre. E mo' vediamo se riuscirò... Se sarò in grado di infliggerle danni a sufficienza. Messo così, visto che non ha molti buff da danno. Un baffano. Oh, merda. Prendere l'oggetto a destra. Non so di che parli, ma va bene. Ormai è andata. Ormai è tempo... Il tempo è passato. Ormai è passato. Ma non avevo caricato il colpo. Evidentemente non abbastanza. Basta costivarmi! Ok, queste nuvolette qua cominciano a scocciarmi comunque. Sì, in effetti forse avrei dovuto prendere l'oggetto a destra. Comincio sul serio a scocciarmi. Dai, finiamo quest'anno in bellezza. Almeno questo, so via. Fammi vincere una bella partita. Cioè, tutte le partite di fila. Anche questo non è male. Però anche l'altro non è male. Ah, ok. Mi sono già trovato l'inghippo di quest'oggi. Qui c'è il boss, ma prima controlliamo in giro. Si sa mai, va. Pattangere, guarda, è uno degli oggetti migliori che potevi trovare. Qual era pure? Non me lo ricordo già più. Fuori? No. Le tante segreti ci sono ancora, eh. Ricordiamoci che almeno questo... Diamanti! Oh, ho proprio quello che volevo. Waffer. Cazzo, è vero! Lo sapete, mi dimentico le cose. In effetti per ricevere meno danni, va, fatta ragazzata. Cose che succedono, gente. Cose che succedono. Quando vado di fretta, poi ancora di più. Ironicamente. E non sto cercando scusanti, eh. Anche perché parlo in generale, non di questa situazione specialifica. Sapete una cosa? Più che altro, io ho preso questo perché mi aspettavo di sparare... Cioè, lo fa. Ma mi aspettavo tipo di... Che la spada interagisse con il prisma. Tipo che facevo così, davo una sferzata con la spada. Mi aspettavo che il prisma avrebbe fatto tipo 4-5 sferzate a sua volta. Invece lo fa soltanto con il raggio che spara davanti. È un peccato. Speravo in quella sinergia, tutto qua. Consuma il nemico. No, no, preferisco le bugger tears per il momento. Va bene, andiamo ad affrontare la madre. Oh no, madre! Sperate alla nostra potenza, però. Oh io, oh, oh io! Oh, cribbio... Cribbio santo. Ok, ora laser. Non sta andando malaccio, eh. Ora invece sì. Ah, non posso tenere premuto. Ah, e poi mi attraversa, tra l'altro. Si sta già rapidamente mettendo male. No. Ancora? Sono ancora abbastanza abituato. No, 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 dai, dai, dai. Non adesso, non adesso. Non adesso, ti prego. Non adesso, non adesso. Non mi sta pieno molto. Voglio solo finire la madre. Grazie. No, vabbè, dai. Oh, grazie al cielo. Di te non mi fido più, guerra, eh. Di te non mi fido più. Spirit... Sì, cazzo, probabilmente è questa. Dai, dimmi che è questa. Spirit... Sì, cazzo, l'ho appena sbloccato. Grande. Ah, chiarola. Me la son vista brutta per un po', eh. E' appena in tempo, visto che devo chiudere, insomma, tra pochi minuti. Perfettissimo. Sono ultra soddisfatto di questa live. E lo scudo? Ma lo scudo è già sbloccato tanto. Uè, Gesù91 ha fatto una donazione da 5 euro. Ringraziamo tutti quanti. Gesù91. Buon Natale anche a te, Gesù. Bene, direi. Allora che... Sì, non ci sarebbero cose che potrei fare in 7 minuti. Ne dubito altamente. Che dicevo? Ah, sì. Direi che può bastare. Quest'anno direi che può bastare con le live. Vi ricordo per la sessantesima volta... Aspettate un attimo. Lo metto anche qui. Discord. Di iscrivervi sul server, se volete restare in contatto con me. E vedere, insomma, quando ci sono le live solitamente, eccetera. Di ricevere gli alerta di fuori di Twitch che a volte non è molto affidabile. Dunque. Scrivi hohoho nel sito. L'ho fatto prima, l'ho fatto prima, l'ho già scoperto. Lo rifarò poi il 3 gennaio. Dunque, io direi che questa sarà anche la ultima schermata finale dell'anno. Yes. Quindi si tirano le somme, gente. Dunque, intanto fatemi bere un secondo che ho la gola un pochino. secca. Non andate ancora via. Ancora un paio di minuti. Vedremo il nuovo schermo. Esattamente. Vi ricordo la tredesima volta che questa... Cioè, io ho rifatto... Ho rifatto... Ho ricurato la grafica, insomma, dello streaming da per me. Non mi sono affidato a terzi. Ho fatto tutto io stavolta. Dunque... Volevo dire qualcosa... Ah sì, giusto. Questo qua per me è stato un anno di assestamento. Il 2020 è stato un anno estremamente duro per me, a causa di diversi motivi, che non posso dire in diretta purtroppo, ma... Oltre a una piccola parte di depressione residua, ho avuto anche un po' di problemi, diciamo, finanziari causati, anche in parte per via di questa grafica qua. Insomma, lunga storia. Non posso spiegarlo, purtroppo, per diversi motivi. Ma il 2021 è stato, come dicevo, un anno di assestamento. Sia a livello... Non dico di views, visto che fanno ancora schifo su YouTube, ma a livello, insomma, generale, tipo tranquillità personale, parte dei guadagni... Perché sono ancora schienato, come al solito, ma almeno lo faccio con più o meno un sorriso, diciamo, rispetto al solito. Credo anche che si veda nettamente la differenza tra quest'anno e quelli precedenti, insomma. Quindi per me il 2022, anche se il Covid continuerà, mi do anche una bella toccatina, nel dubbio. Il 2022 sarà per me un anno di refresh totale. Proverò ad abbandonare parte della mia identità passata e dei miei problemi, appunto, passati, per provare a migliorare e riservarvi ulteriori sorprese. Sono abbastanza ottimista circa questo. Avevo già detto la stessa... Non avevo detto la stessa cosa l'anno scorso, ma qualcosa di analogo, ma stavolta so che è vera. Perché so di aver raggiunto un certo equilibrio, insomma. In che senso? Lavorativo... Praticamente. Dunque. Per quanto riguarda il resto, i re del canale. Questa è l'ultima volta che vedremo questi re del canale. Dal 2022 si cambia e verranno resettati. Quindi, in questo specifico caso, devo ringraziare ovviamente, in ordine specifico, naturalmente. Questi qua sono la top 5 dei donatori dell'anno che mi hanno supportato molto più di chiunque altro, praticamente. La sorpresa di quest'anno è che non è Heart 90, non è Simon Woods, ma il re del 2021 è Grey Wolf 8964. Quindi, appena lo risentirò, appena sarà possibile, insomma, gli permetterò di, insomma, patteggiare per fare un gioco in live a scelta sua. Non mia, però patteggiando sempre, perché se mi si chiede di fare Five Nights at Freddy's, io dico comunque di no. Sapete come sono messo a livello di vigliaccheria. Per quanto riguarda gli altri, naturalmente, vi sono estremamente grato, estremamente. Modigress, Serpente con i tre a posto delle E, Smashboy Bros, Simon Woods, ex re del canale 2020, non dimentichiamocelo. Insomma, sono ultra grato a tutti voi, in ogni caso. Lasciarieti beggare qualcuno? No! Comunque vedrò, vedrò, insomma, di ricompensare anche voi in qualche modo. Avrete comunque un posto d'onore nel Pantheon dell'Ottaverso, in un certo senso. Cazzo, ancora 56 spettatori, la gente mi sta davvero ascoltando? Strano. Per quanto riguarda i Patrons, invece, ne ho persi parecchi rispetto agli altri anni. Probabilmente, non so se lo terrò ancora a Patreon, anche se è molto utile, nonostante tutto, per me. Proverò a escogitare nuovi bonus per i Patron. Si accettano anche suggerimenti, eventualmente, su Discord o che altro. Sì, fiero. Non per il teabag, poco ma sicuro. Che dicevo? Sì, cercherò di escogitare nuove ricompense per stimolare la gente a unirsi anche ai Patrons, insomma. Visto che in questi anni, insomma, al di fuori dell'accesso ai video in preview anticipato, insomma, non è che abbia offerto tantissimo. Oltre a un paio di bonus, insomma, su Patreon stesso, appunto. Ho detto appunto 600 volte, ma è sempre il nervosismo e la stanchezza che parla. Vi ricordo che è una cicatrice, comunque. Fa figo. Ah, si è resettata la chermata dietro. È vero che lo fa ogni tanto. Quindi, il re del canale ne abbiamo discusso. Quindi, il re indiscusso del 2022, in questo caso, sarà Grey Wolf. C'è stata una rimonta all'ultimo secondo, praticamente. I Patrons, sono grato anche a tutti quanti voi, naturalmente. Tutti quanti voi che mi avete seguito da casa. Ah, faccio anche una piccola lista, faccio una... Ringrazierò anche tutti quanti quelli che hanno doppiato. Almeno i primi 25 che hanno doppiato, che hanno donato, volevo dire. Quest'anno, perché, insomma, non mi sembra corretto non ringraziare anche gli altri che hanno appunto supportato in qualche modo il povero Otakumen. Sottolineiamo il povero. In ordine! Dunque, al di fuori della top 5 abbiamo Suindo, Gesù 91, Veone Ladral, Antinas, The Dark Side of Bicef 97, Il Matrix, Antares, Leon Xandergan, Chris Benoit, Wreath, Portugese di Ace, Gesù 91 di nuovo. What the fuck? Allora, ancora Gesù 91? Quanti account? Ah, è vero che c'erano dei problemi, mi sa. Norman, 6321 i fai, Nobody Gamer 89, Vanitas, ancora Ace, Onze, Bo, Luke Gamer 091 e Filippo. E benvenuto a AXX1. Settimo? Eh sì, oh, sei nella lista. Sei settimo e diciassettesimo, diciannovesimo, per qualche motivo. Però ci sei. Quindi grazie a tutti quanti voi che avete supportato Otakumen, anche finanziariamente appunto. Suona male detto così, però questi soldi mi hanno aiutato, non potete sapere quanto. Infatti per prendere attrezzature, giochi, anche console, soprattutto Simon in questo caso. Penso di non essermi scordato niente in questo caso. Ah sì, dall'anno prossimo ci saranno anche altre, cioè ci sarà un po' più di varietà con i gameplay al di fuori di Isaac. Isaac è situazionale, vi ricordo. Isaac lo sto giocando adesso perché mi piace molto come gioco, mi piace la sfida, tutto il resto. E perché è una cosa che consuma molto tempo. Quindi ne stiamo approfittando adesso, ne approfitteremo un pochino anche a gennaio, ma poi ricominceremo a mischiare. E forse cambierò anche gli orari delle live, che vi ricordo che per ora sono da lunedì, cioè lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 20 alle 22. Ma visto che adesso stiamo giocando a Isaac, è cambiato tutto quanto, temporaneamente. Ulteriori informazioni su Discord, vi ricordo. Dunque, non penso, stavolta penso di non essermi davvero scordato nulla. Ah, ringrazio anche tutti quanti i miei mod che hanno avuto la pazienza di seguirmi in questi anni. Scusate che non sono stato sempre una persona molto affabile, causa migliaia di motivi. Grazie a tutti quanti i mod, come dicevo. Quindi, basta così. Ah sì, giusto. Ringraziamo Ace e Gesù91 che ho già donato e Gesù91, re della serata. Però Grey Wolf resta il re di quest'anno, mi raccomando. Sturatto, benvenuto nella Ota Community. Basta. Quindi, gente, io la prossima settimana me la prenderò sabbatica di semi-vacanza, se vogliamo dire semi-vacanza, perché continuerò a registrare, naturalmente. Però mi esterrò dalle live e cercherò di stare il più polleggiato possibile, perché non mi riposo come si deve da una vita. Nel senso, proprio senza avere il pensiero in testa anche. È un po' complicato da spiegare. Quindi, sì, noi, bella gente, ci vediamo nell'anno prossimo. Scusate se ho tirato un po' per le lunghe con questa spiegazione, ma c'era molte cose da dire. Soprattutto il fatto del cambiamento personale emotivo mio. Al di fuori della fidanzata che ho trovato, eccetera. Dovrei ringraziare molte altre persone, ma ci metterei un'eternità per farlo, insomma. E poi non so neanche se vogliono essere rominate, tra l'altro. Quindi, noi ci vediamo nel 2022. Questo, no, non questo, ma il prossimo lunedì ancora. Quindi il 3. Noi ci vediamo il 3 gennaio 2022. Presumibilmente, sempre tra le 5 e le 8, se vogliamo fare ancora Isaac. Cosa che mi pare piaccia al momento. Quindi, non mi resta che augurare a tutti quanti voi buona Vigilia di Natale. Buon Natale. Buona Befana anche, no. L'Epifania non è ancora arrivata. Buon anno a tutti quanti. Quindi, qua, un Otakumen, non dico rinato, ma quasi. Un Otakumen più sereno. Ci vediamo l'anno prossimo. Qui Otakumen. Auguri a tutti quanti buone feste. Passo e chiudo. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao. Grazie.